Siamo in live? Ci siamo? Siamo partiti o non siamo partiti? Dovremmo essere partiti, ve lo confermate in chat? Siamo in live o no? Non lo so, credo di sì, credo che siamo in live, credo, aggiornatemi in live, ci siamo, è partita la live sì o no? Fatemi un mega spam di sì o no, se è partita, se mi sentite, se mi vedete, se siamo in live, se si sente tutto, si vede tutto, ci siamo? Buonasera ragazzoni miei, buona domenica a tutti e benvenuti in live, ultima live sulla Big Hardcore, dedicata appunto a questa serie Ci siamo, buonasera e benvenuti a tutti, come state? Come state ragazzoni miei, benvenuti? Benvenuti, 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 tutto bene? State bene ragazzoni? Io tutto bene, tutto bene, tutto bene, guarda mi fermo un attimino che voglio abbassare un pochettino la musica Così si sente me, così sentite anche voi meno casino e tutto quanto, ok, abbassato tutto e ci siamo, buonasera a tutti Ciao Andrea, benvenuti ragazzi, benvenuti Allora, oggi è l'ultima live appunto come avete visto sulla Big Hardcore e siamo in compagnia di due ospiti Non succede ma si succede la frase che rimarrà E ragazzi, avete visto il video, purtroppo la Big Hardcore è finita, ci sono stati dei problemi E i T-Pock, quindi T-Pock, ok, c'è parli di un console, hanno deciso di chiudere la serie definitivamente I motivi principali li ho detti anche io oggi nel video E niente, sono felicissimo di commentato, di commentata la serie, di tutto quanto e nulla Oggi andremo a fare una bellissima cosa Avete visto la miniatura, avete visto il titolo, l'ultima live sulla Big Hardcore E voglio concludere in bellezza Esploreremo le Anzen City con Kikko e Domi, che sono i due ospiti di questa live E voglio due la Railwarden Non so, non so se le pozioni eccetera, possibile ci muoio, possibile no, non è importante L'importante è che appunto ci divertiamo Buonasera, come state ragazzi? Voglio un mega spam di bene o male in chat, state bene? Nel mentre sono andando con il ghi, tra per chi se lo sta chiedendo, ok? Sono andando da Kikko e Domi Intanto li salutiamo, anzi no, prima voglio sapere come state, bene o male? Fatemi un mega spam in chat, bene o male? Bene? Caldo ma bene? Eh lo so, fa abbastanza caldo, sì ragazzoni, lo so, lo so, lo so, lo so Io tutto bene, sto molto bene, mi sono riposato ragazzi ieri Allora, ok, ve lo dico, sono sincero Sono un botto comunque, come dire, triste per la fine della serie Ma ragazzi ieri ho dormito Dopo due settimane che dormivo cinque ore a notte Sono riuscito a dormire, cinque o sei ore a notte, ok? Si andava bene sette ma nemmeno dormivo cinque o sei ore Poco, io sono abituato a dormire di più E ho dormito, mi sono riposato Ho ripreso tutto, praticamente Il sonno al retrato ragazzi che avevo giocando alla Big Hardcore E nulla, quindi sì, quindi sì ragazzoni È un po' un solevo però mi dispiace un sacco Mi dispiace un sacco, devo essere sincero Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace Allora mancano pochissimi blocchi per arrivare appunto da Domi e Kikko Ti stimo tanto, grazie mille E questa sera ragazzi, mega ritorno Perché faremo le Anzian City, tutto quanto ci divertiremo E poi sul tardi, Bedwars in live Con Kikko e forse Domi, credo di sì E che dire ragazzoni Questo sabato ci sarà anche la Coral Cup Ve l'annuncio Sabato No, 8 Che giorno è sabato, vediamo subito Sabato è 8 Sabato 8 alle 16.30 ci sarà la Coral Cup Vediamo se facciamo maratona Comunque sì, Coral Cup qui su YouTube La giocherò in compagnia di Domi, eccetera, eccetera, eccetera Quindi questa sera sì, tornano le Bedwars finalmente ragazzoni Ora, intanto lasciate subito un bellissimo mi piace Se siete su TikTok vi consiglio che appunto Di venire su YouTube che si vede meglio Schermo largo e tutto quanto Ora smutiamoci e salutiamo i nostri ospiti Buonasera ragazzi Buonasera, come state? Tutto bene, tutto bene Allora Kikko, io sto arrivando alle tue coordinate Sì, non è proprio casa mia È che qua c'è una farm di smeraldi che Domi voleva provare Ah, ok, va bene Sopra, sopra picchiate No, 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 no Tempo un minuto, sono lì, sono quasi arrivato Allora aspettiamo No, no, no Buonasera, buonasera Ok, ma li sentite su, sentite i Discord ragazzi? Ormai la bigardo che è finita Siamo online io, Kikko Domi Per fare il content e Lightning Non so cosa sta facendo Ok, sì, credo sia anche lei Boh, non so cosa sta facendo Comunque, 13.000, 6.000 Ok, mancano 3.000 blocchi La classifica, ma ragazzi Che classifica vi devo far vedere? È finita la serie, nessuno ha vinto Cioè, non... Chi vi devo far vedere, ragazzoni? Ciao, mi saluti Sono triste che sia finita Allora, lo so Anche io sono triste Mi dispiace un sacco Ragazzi, vi ricordate la frase Che dissero di Tanti Limiti di oggi? Che dissero in un live? Ora stiamo litigando Succhendo tutto il casino E sta andando male la serie Ma un giorno Rimpiangeremo tutto ciò E quel giorno è arrivato presto Praticamente sì, ragazzoni La cosa che mi dispiace È la live Ecco, dell'orario della live Non lo so sinceramente Quando finirà Vedremo, 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 vedremo Una cosa che voglio dire Perché molti Da quando è uscito il video Di molti altri creator È Marques, ma la colpa è la tua Marques Perché tu hai traiardato O l'ho spiegato anche nel video di oggi Mi dispiace per chi pensa queste cose Perché ovviamente non guardano le live È normale Molte persone Non pensano Con la loro testa E dicono Ah, quello ha tanti punti Quindi è colpa sua È colpa di quello In realtà è la colpa di tutti Se la serie è andata male Quindi Credo che ognuno Ha la sua colpa, ecco Comunque Non pensiamo tanto Ormai è finita Non possiamo farci nulla Quindi anche se ci mettiamo a parlare Non risolviamo nulla E noi ovviamente non interessa E allora Le erosioni sono rosse Le viore sono blu Le bed sono belle Ma Marques di più Grazie mille Franci Allora Per quanto riguarda adesso le live Quando torneranno Vedremo Perché Non voglio fare le classiche Live Bedwars Voglio organizzare una nuova serie Il live Ci penserò Ok Ci penserò Ragazzoni miei Ci penserò Allora 13.600 Anzi Se avete dei consigli Perché Ora Secondo voi Ditemelo voi in chat Secondo voi È bello portare questa serie Da soli Finiti gli avanzamenti da soli Sì o no? Secondo voi Voglio sapere il vostro parere 13.700 Ok Siamo arrivati Devo andare verso di qua Ok Scendiamo un pochettino della z Quindi arriviamo a 600 Ok E andiamo Perfetto Verso di qua 615 Ok Andiamo Andiamo Verso di qua Perfetto No Esatto Non ha senso Quindi ragazzi Quello che voglio fare io È adesso Concentrarmi su altro Ovvero Le Bedwars Forse le continuano a portare Sempre diciamo come Final Live Senso che Essendo che me l'avete chiesto E poi Vorrei portare principalmente Una serie Con degli ospiti Ok Che sia Jake Che sia Domi Che magari Checco Vediamo un po' ci organizziamo Voglio fare una serie figa Anche hardcore ragazzi Bellina 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 Perché Mi è rimasta questa Big guard E quindi Mi dispiace un sacco Oh sono arrivato Siete sopra? Oh Ragazzi io avevo il Bedoumen È un problema Basta che tu non sia passato dal Mi è apparso il raid Ok Problema? Sì entra qua Sì porca troia Entra qua Vai Merda Domi levati per cortesia Cosa succede adesso? Vai faccia al muro Verso quella Beh adesso niente Perché muoiono Ma dove spavano Sopra? Sì Vabbè allora è un favore Guarda quanta roba Non Eh sì no Il problema sarà le streghe Che sono l'unica cosa Che sopravvivono Ah Vabbè si chi le Vabbè Domi Se vuoi prendere Aspadate le streghe Però aspetta Perché sennò Vabbè no Vai 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 Aspadate vai vai Ok Ok Ma come Ah ok ok Non toccare nulla No no Non sto toccando nulla Non sto toccando nulla Io le posso picchiare da qui sopra se volete No ma chi se ne frega Boh se vuoi sì dai A posto andate Allora Ti spiego Questa canna farm di raid Quindi effettivamente è giusto Che tu l'abbia invocato Ma non Non sai la meccanica Ok vai dimmi Ti spiego la meccanica fast Adesso Domi è già incastrato Allora Praticamente bisogna andare avanti Su quella pressure plate Vai intanto lo start giusto Ma È normale È normale Tranquillo Vi faccio Di volta la cacca di sopra Allontanati da lì Che sennò Lo sposti E lo mandi in morte Vai 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 Guarda il raid è startato Giusto Oh Ecco Lì che spawnano i nanetti Ok Hai startato il raid vero Sì sì Ok Io ti consiglio di metterti L'armatura Marquez Dici Va bene Ma sì perché i vex ci vedono Ok Ho la sacra i vex È l'unico problema Questo è tutto il drop Che ti dà Sì le ceste È quello che trovo Guarda gli smeraldi Flemmo Flemmo No no Ma se vuoi smeraldi Ti li do eh Ma no Ma guarda la cesta Degli smeraldi Marquez Madò Ma quanti smeraldi fa 3.300 all'ora Ho fatto 3 stack di blocchi In 10 minuti Ma ogni volta serve il badomene Però serve l'effetto No no L'ha già preso Ce l'ho il 5 Esatto Quindi adesso si spawnano 2 Ecco Ok Madò Già lo stack 5 Ma vabbè È assurda sta roba Devi vedere sopra che casino Perché sopra spawnano anche i ravager Adesso che ha badomene 5 Ah è vero E dove? Come muoiono? Eh nella lava Guarda se vuoi salire Posso? Sì 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 Vieni vieni Però atterra Dove devo atterrare? Ho paura No ho paura È un problema qui? Sì è un problema È un punto sensibile Sì sì tutto ok Ho preso solo una botta Comunque io voglio Oh 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 Ma però ma quanti? Fanno male bestia Sì sopra è un bel casino Ragazzi è sicura questa zona? Io non lo so C'è uno stack di mele Però in caso mi mangio tutte quelle Io mangio solo Eh vabbè Infatti ne ho mangiato una perché ho fame No 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 Ma quanti vex? Oh ma quanti? Ma tu? Sì vabbè è colpa nostra Ti avevo detto È quello il problema Ma tu quanti vex? No se quelli mi vedono È la mia fila Vabbè Lo so lo so Vabbè tu resta in quel punto lì Stai tranquillo Ma no Ma cazzo Ma Kekko tu avevi un compito Ho trovato Anzen City Eh le ho cercate Ma non le ho trovate Poi è arrivato Domi Mi ha dato Smeralde e via Ok Le ho cercate Ho fatto tipo 12.000 blocchi dalla Non bro Ok c'è l'app Stop Sì sì siamo sul mare Ok sì 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 Dicevo Quindi dobbiamo andare a trovare tutti e te insieme? Beh sì Mi sa che viene anche Domi Vieni Domi sì Oh vabbè Ok ma tra quanto? Cioè cosa stai facendo tu Domi precisamente adesso? È un attimo gli Smeraldi Ma mi sa che penso di aver già così finito Troppo poco Quanti te ne mancano? Eh non l'ho visto Vabbè glielo puoi dire tu Vediamo Allora quanti te ne servono? Dimmi 1.000 ne deve fare Siamo a Siamo a due stack di Smeraldi qui dentro Ah le trasformi in blocchi e dimmi quanti sono Io devo arrivare a due stack Ma non ti li posso dare io Ce l'ho io due stack di Smeraldi Ma ce li hai? Eh sì Mi devi arrivare a mille di Smeraldi Perché c'è anche la cima dei mille Smeraldi Eh due stack di blocchi sono più di mille Smeraldi Eh ce l'ho io Ti servono? Vai 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 Allora c'è tutto bro Puoi anche smettere di formare No 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 Ma non è ammesso dal regolamento Eh bro ormai veniamo warnati dai Dai fatti gli Smeraldi andiamo Eh mi dispiace Mi prenderò il warn da Steph Dai non fa niente Ma sei pazzo? Ne sei sicuro? Sì 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 Allora ragazzi Adesso ti fa trovare l'insensiti E le andiamo ad esplorare Domanda Io sono indeciso se combattere il warden Secondo voi sì o no? Sì o no ragazzi Ciao Giorgia benvenuta Sì o no ragazzi? Ragazzi possiamo andare Ma vabbè Tommy ma ti posso chiedere perché li stai facendo? Io e me ne ero messi da parte che volevo fare le cose belle Dio mio Senti facciamo un 400 punti in un colpo infatti Posso rivedere tutti i Smeraldi? Se vuoi Facciamo un po' lo scambio tipo quello lì Oh non tocca sta giù E ridoccami Aspetta Aspetta Andiamo l'altra volta Andiamo l'altra volta No 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 raga niente Niente acqua Abbiamo la stessa lascia vero? Che sharp ne stai? Cinque? Sei Sei? Sì vabbè ok Bel tentativo Bel tentativo Mi piace Dai su andiamo 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 Il problema è che Andiamo dritti verso una coordinata Perché non è che ci siano Eh si dobbiamo andare a caso Sapete dove si trovano vero? E beh io da quello che so neve no? Montagne di neve giusto? Mh Perfetto Certamente Snowy Peaks o Ice Peaks Ok Allora come la vogliamo lutare? Aggressiva? Ma allora la prima te la faccio fare come va fatta Come insomma una persona normale iniziata Ok L'unica cosa Te le faccio un po' disinnescare Poi quando prendi mano Te le facciamo fare Normali Perché insomma Oddio Ve le faccio fare Perché solitamente io ci metto Cinque dieci minuti a lutarne una Ma so perché Do se c'è il cesto Ma tu hai unbreaking Tre solo la share? Sì Eh io ho solo share normali Senza unbreaking Ah vabbè Vabbè Tanto quelle si rifanno Ciao Marty Ok Dimmi tu quando Domi possiamo andare? Sì Ma dai ma tanto Cosa riservo? I punti Dai andiamo Chi ti ha detto niente? C'è più punti Fammi vedere se ho sovrato Marty Xoxo Ah ma Ok Ok Quindi la faccio ragazzi E lo faccio il warden Però vediamo che pozioni ho Eh non ho pozioni mi sa Vediamo qui Non ho pozioni Mmm Ma secondo voi Sono con uno stack di mele Tutta la mia armatura Ci riesco Lo so che la serie è finita In caso prima di quittare Aspetta vediamo un attimo Cosa dicono loro Io io Non so neanche più Come si è fatto Ragazzi ma domanda Ma questa per voi È l'ultima È l'ultima live sulla serie Poi basta Io domani Mi faccio tutti i boss Ah ok 5 draghi E il warden A spadata Ok tu Tommy Io non devo ancora pensarci Ok Ok no perché oggi Volevo andare lì E morire dal warden Tipo 1v1 Faccia a faccia Ma senza nulla Cioè proprio Così Senza spada Senza un cazzo Sì spada Spada mi metto Senza cure Solo mele d'oro Ah no Con le mele d'oro Muori va bene Eh sì ovvio Dai Andiamo Ma neanche OP Mele d'oro proprio normalissime Sì sì normali Quanti minuti Ah spè spè Facciamo così Quello è pazzo Allora facciamo così Eh Se trovo almeno 2 minuti d'oro OP Ok In un anzen city Lo duello Tanto 2 minuti d'oro OP È apposta Ci sta Anzi 3 Facciamo 3 dai Mi piace di più il 3 Va bene Tanto non Cioè nel senso Solitamente Con 3 mili OP Non te ne fai proprio nulla La supervenza sta nelle cure Perché un paio di splash Almeno 6 splash Ce ne vogliono Eh sì lo so Vabbè dai Lascio anche a chieda di posizione di cura Ah e allora me le passi te Mamma A posto Dai Ma non si possono fare Questi scambi Ma dom dom ora ti insulto Ora ti insulto Hai uno scambio Bro Smeraldi Per instant health Ma esattamente Mister domi dove Infatti lo so C'è Ragazzi Ah Lightning ragazzi Ci ha salutato E finì così la sua serie Eh no Mamma mia Bug Dai Povero Lightning Andate in depressione Abbiamo 200 punti Addio Poverito È una ragazza comunque Checco Ah vuoi Smeraldi Intendo è una ragazza Lightning Ah infatti Mi chiedo se vuole Smeraldi Le faccio fare 3000 punti In un colpo Se vuole No no che mi supera No 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 Ma o andiamo a trovare Sonsensiti Ah sì sì Scusate Scusate Andiamo Vai Andiamo In negativo di X Io seguo Checco Ok In negativo di X ragazzi In negativo di X Ok Vai io sono proprio dietro Checco Intanto planiamo tranquillamente È negativo di X per esempio dritto Y 13500 Z Pardon 13550 X Esatto In aumento Quindi 6700 6800 In negativo ovviamente Ah dammi un attimo Che metto sulla stessa Z Vai vai Vediamo la serie Morale della favola Viva le bad words Comunque ora vediamo Se Tommy mi dà le pozzine Lo duegliamo ragazzi Oh Checco Ti sei entrato dentro Semplicemente il concetto Ok Il server rimane on Perché avranno pagato Immagino il dominio Per chissà quanti mesi E hanno detto Vabbè che senso ha chiudere Lo sfruttiamo per gli ultimi giorni Per qualche che vogliono Andr'avanti E via Però per il resto Ragazzi l'idea è morta Adesso non c'è più competizione Avete visto appena Degli scambi sgravati Vabbè sì Sti cazzi Vabbè ma gli devo dare le pozzine di cura Eh Come le pozzine di scura Tre stack di blocchi di smeralda Allora va benissimo Domi si è raggiunto Io sto a meno 7300 Adesso siamo sopra una foresta Di spruzza altissima Ok vai vai Sempre nei dritti comunque Puoi dare le P quindi Ma ragazzi Ciao Carmen benvenuto È chiuso Ragazzi questo meme è assurdo Comunque è finito Ma se non finiva È vero Ho perso Checco Ho perso Checco Checco che Oceano Sono a 8700 13461 Ripete un altro scusa Ok 13400 Vabbè raga Comunque Quindi sarebbe la direzione Ok perfetto 200 blocchi a sinistra La Z è da meno 13400 Ho fatto 200 blocchi verso sud La Z è 13400 Sì io dico X Perché X e Y Mi viene in mente Ma in realtà è Z Ciao Cattileia E la X invece X 9200 adesso Z 13453 Ok quindi Che quelli sono dietro praticamente Allora mi fermo su una spiaggina Che ci sono due tartaroghine Le accendo anche con la spadata Così le vedete Accendo un fuoco Io sono a 9400 Ho superato mi sa Sì Vabbè non importa Ah ecco di Vai Top Ok No se muoio adesso posso rinascere Ma con niente raga Ma non c'è nel senso Se muoio adesso ciao Non c'è nel senso Vero Non c'è nel senso fare slash morte Però lo voglio provare Perché non l'ho mai fatto slash morte Ma sai che nemmeno io Pazzesco Cosa Ragazzi Vi parto un countdown Da CP Ragazzi ma io ve lo posso anche Dare l'IP Ma tanto c'è la whitelist Non si può entrare Però evitiamo di darlo Cioè nel senso Ok Andiamolo Non succede Ma se succede 13485 Ragazzi allora io vado verso una direzione Ok Ci splittiamo così Magari la troviamo Prima Che dite Ci sta Almeno risparmiamo tempo Ci sta Ci sta C'è solo un problema Non so se conoscete le montagne giuste Sì 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 Io si tranquillo ho trovato Questa è la parola pix Quindi L'unica cosa è che ho il litro a metà Oh anch'io infatti Tra un po' Qualche maiale Qualche pecora Diventerà XP Sì 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 Invece vado in giro con tre litra Boh ne ho anch'io Quattro e cinque Non è che Però non hanno Mending Dai ci sta Dici che dobbiamo Vaggere per tanto Secondo voi What Intendo Secondo voi Dobbiamo Vaggere per tanto Non lo so Io ne ho trovate Tipo sei di fila In niente Però bisogna trovare Il filone giusto Biomi sono random Ma è possibile Che ne spawnano Quasi due vicine Sì Ok Nel raggio di 100 200 blocchi Barra 500 Sì anche tre Ok ho capito Però Se mi va un po' culo Stiamo cercando L'insensiti Per andare a lotare Ho trovato un bel villaggino Ma non ci interessa Ora come ora Il problema Ragazzi sono le litra E che io ce l'ho A 217 Comunque mi raccomando Lasciate un bellissimo Invece se ancora non l'avete fatto Ragazzi l'IP Non lo do ragazzoni Meglio di no Anche perché c'è la Wifers Non me lo posso dare Allora Stiamo cercando l'insensiti Sì le andiamo ad esplorare E Domi se mi tranno le pozioni di coso Possiamo tranquillamente Appunto Due larici Il warden Che Sì lo facciamo Dimmi Ho trovato un brown panda Non è vero Non è vero Sì Non è vero Lo giuro Hai trovato un brown panda? Sì A caso Stai scherzando? No Dai non faccio fare 20.000 Coordinate per venirti a vedere Ok fammi l'avanzamento allora Prendi il bambù vai Non ci so È impossibile Bambù forest 83% Ma il brown panda Non è così raro Cioè è assurda sta roba Non lo so quanto sia raro effettivamente Vood Bedlands Il bambù è uno su 50 Dicono Uno su 50? Beh Minchia è una cagata Allora ne faccio mille Ragazzi guardate Non posso nemmeno Farvi il seed Darvi il seed Tirabile fuori Io credo fosse solamente trovabile Tipo a modi Pecora rosa Eh non ho Invece bisogna farli accoppiare Ah ok Eh beh Ne hai avuto sfiga mi sa Sì ma No è assurda come cosa Prendi quattro live Ma da quante ore È quello È sei ore Ovviamente aspetta Aspetta Non sei ore a trovare il brown panda Eh ma la maggior parte del tempo Praticamente sì Vabbè ci sta Però è veramente sfortuna Dai Cioè nel senso Ma va bene tutto Diciamo che sei Un po' sfortunato Eh sì Odio delle mucche Gentilissime Mi dispiace Sono venuto qua per Cucciarvi l'esperienza Non voglio nientartola voi Madonna Sembro un cazzo Barbara Grazie mille per i tuoi 50 Tietatore sei uno dei miei tuoi preferiti Ti mando un bacione Grazie mille Barbara Ti voglio davvero bene Grazie di cuore La percentuale del brown panda È di 2,04 Non c'è tipo una Tipo tot su tot Tipo nel senso Una su tot Per esempio Una su 50 Come ha detto Tommy Ma perché la big rota car finita E i tipoc Hanno fatto un video Non riuscivano a starci dietro Per tutto il casino Se le ha creato troppa tossicità Troppa competitività E quindi L'hanno Dicito di chiudere Ciao Benvenute in live 1 su 50 2 su 100 Vabbè Comunque ragazzi Come io Davvero non lo voglio più trovare Il brown panda Non lo voglio più trovare Ragazzoni miei Non lo voglio più trovare Comunque Come Cosa avete mangiato di buona pranzo Dai dimmi un po' Sono curioso Cosa avete mangiato di buona pranzo Questo qui non si trova Vero Wind Non credo Perché non è Neve normale Non credo Non credo Allora Checco io ho trovato Montagna con la neve Ma C'è scritto Forest Wind Che caspita è Tiger No C'è il gioco in inglese Sì Anch'io Minecraft Ok sì vero Minecraft Wineswept Che caspita è Wineswept Sei in mezzo a delle montagnette Però non nulla vero C'è la neve sopra ma nulla No 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 Neve semplicemente perché ha piovuto Faccio 120 fps Ah ok Perché li ho loccati Top 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 Va bene va bene No vabbè sì Comunque no Sono montagnette di minchia Ok allora Vado avanti Basta che No c'è da essere scritto Pix per forza Io ti giuro Sto a meno 17.000 A meno 12.000 Niente Eh io sto a meno 15.000 A meno 17.000 Sì 17.000 praticamente Tra poco la mia Lì tra Eh ma pure la mia La mia lo sai Ha 170 utilizzi E io ne ho solo una Questo è il problema Eh la mia ne ha 130 Io sto uccidendo Qualsiasi cosa Io vedo per strada Oh No nemmeno qui mi sa Taiga sono Snoopy Taiga Nulla Stony Shore Niente Allora raga Aspetta Qui c'è Snoopy Plane Snoopy Taiga Il server sta facendo Fatica a caricare Sì sì Che con la taiga Di neve Nemmeno Ah non vedo più niente Mi sa Non carica una ceppa Oddio mi sono trovato Una montagna in faccia Oh oh Non è che per caso Lagga ma Io mi sono un attimo Fermato Non lo so Stony Shore Non sa per niente Giusto Eh no Eh nemmeno la Snoopy Taiga Checco No Picks Picks Montagna Oh Ciao Anche chi Di qua Oddio ho trovato un igloo Snoopy Plane No nemmeno Io sono una bomba jungle Bambù Jungle Comunque dicevamo Ma questo è un igloo così C'è il villager Oh Ma che è una trappola Marche d'oro Grazie mille bro Buonasera Nossino Benvenuti in live Oh Mela d'oro Si gode Posso farlo Vabbè ma che lo faccio a fare Lo potrei fare No Lasciamo stare Allora Perché se quando Do gioco nella B card Do credo per fare L'ultima live Nella B card Do credo come avete visto Ragazzi Il sistema dei punti No non funziona più Ragazzoni Non funziona più Perché appunto Non ha senso Cioè nel senso Se uno fa i punti Vengono aggiunti Ma non ha più senso Fare punti a questa roba Qui c'è tutta neve Ma possibile Non si trova Una montagna Ghiaccio Tutto sto casino Non si trova L'unica cosa è che Riga Io ho l'elita scarica È un big card Che ho il problema Potrei fare una roba Me la ho pì Ho appena trovato La god apple In un portale In un portale Che culo Ah jacket pics Va benissimo Dove sei Coordinata Allora Ve le scrivo Ah trovata Sì Top Vai scrivi cord Per la madonna Meno 19.000 Ok sono vicino Sono vicino Sono vicino Meno 14.136 Sei a mia sinistra Domino Io credo Sì a sinistra Di tutti Meno 19.000 Perfetto Io sono praticamente Vicinissimo Domino Mi arrivo Comincio a scavare Verso il basso No aspetta Aspetta Ma almeno Si scava tutti assieme Ma è sicuro Che c'è oppure di no Eh 50 e 50 Sicuramente c'è Il deep dark Ma non so se c'è Anche il deep web Purtroppo Qualche consiglio Qualche consiglio Di Di roba Che mi dovrei preparare La zappa Ma beh Si trovano lì Sì ho capito Ma vuoi aprire le ceste Eh sì ovvio Io voglio adrenalina Consiglio di roba Che vuoi prepararti Ah ok Vero 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 Sennò vai a pegare Davanti a me Fate quello che vuoi Questa è la risposta Più ottimale Che posso darti Secondo Marques Allora 10.900 14.000 No non so se Do andare per Sì ok Perfetto Oh ho trovato Quindi zappa Accesoria Ok sto arrivando Mancano veramente 2000 blocchi Io sono lì Trarottissima Faccio Altra roba E via Comunque Rega io ho paura Che mi schianto Perché il server Non carica c'è anche Grazie ancora Eh no Ma tranquillo Te li carica per forza Se sei vicino Comunque non ti schianti Cioè se ti schianti Perdi massimo Quattro cuori e mezzo A meno che un drago Non ti spinga Ma quella è un'altra condizione Beh Beh Ciao ragazzi Sono proprio io Beh Beh Il ragazzo che sussurrava Alle ali di drago Alle ali di drago Deve andare a 14 Eccolo qua Ah bamboo forest Ok Prendi se siamo dietro Io ci sono Sono sul picco più alto Ecco Anche domi mi sa Sì 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 arrivo Mancano 100 blocchi E' disgustoso Prendo un attimo Ok Perfetto Dovrei esserci anche io Mobilità Ce l'abbiamo Non mi cambio elitra Boh Dammi ne una Tommy Va Dammi Dammi Mi dai un elitra Ma cosa Ma raga Ma sotto è pieno di cubi Ma l'ho inciantata senza Inciantata se è possibile Sotto è pieno di cubi Di quello Che vi ridà l'esperienza Ah vero 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 Va bene allora Cosa No ho detto che non te la do Ma va bene Scusa Comunque ci sono Siete proprio Sopra il picco Il picco più alto Perfetto Eccomi qua Dietro di voi Top Ok Allora Quando vogliamo scendere Chi scava Io vado Vado io Io bro Ho scoperto una roba Eh ma non hai paura di cadere Sì Quindi Federfall in 4 Allora Assolutamente sotto le montagne Ci stanno delle gigantesche grotte Quindi il volo è bello alto Però Cioè Te ne accorgi A me che non è la sfiga E non riesci a prendere il volo di un metro E becchi sotto una spunta di pietra Eh lì Oh Ecco Ok Bene Posso Vengo sempre con te Sì 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 tranquillo Basta che stai in un angolino opposto Ma è che se no non vedo Vai 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 verso Sud Vai Così Est Sì Perfetto La tua elitra è veramente occupante Ok Dici Sì sì guardami in faccia Che meglio Sì 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 continuiamo Vai Ma ancora altezza 120 Eh si è bella Ah beh ma abbiamo scelto il picco più alto Infatti in effetti In effetti Ho proprio paura di ritrovarmi una spunta tipo Di sta roba Con Federfall in 4 fai tipo 50 blocchi forse Con una dripstone sotto i piedi Forse un po' di meno Non lo so It's Corvo grazie per 10 Io mi metto l'elitra che in caso volo Va bene Io ci mette con la natura che nel caso cada un creeper Non muoce Ah beh sì è vero Ah beh allora sono pronto a sbiciare Chi entra lì 70 C'ha letto un olimpido 2021 di notte va di Morocco Grande Omar Allora buon viaggio Ragazzoni Si duellasi o no Oh mio Dio Che anzi Che co Ma c'è Ok ok Sono caduto perfetto Eh Io sono giù Scendiamo da lui Eh beh venite Beh comunque a un inizio Il dip l'abbiamo trovato Ok allora Ho alzato bene L'audio di minecraft Datemi un attimo Almeno si sente meglio Ok Perfetto Ci siamo Poca a scendere Che dobbiamo fare Che c'è una zappa in più per caso Eh sì ma con Siltac E op Occhio Vabbè se vuoi te la do però non puoi farmare esperienza Eh quello che Volevo liberare lì tra più che altro Vabbè Te la do adesso Me la faccio Me la faccio Chill Hai efficienza 5 dietro Ma che vuoi Domi Ma perché ti rubi le mie robe Cioè me non ho capito Almeno lo ridam No dai dammi la Dammi il che cosa dai Dammi lo pure a me Oh mio dio Dai Si scala la classifica Che sta succedendo Che sta succedendo Non lo so sentivo un bordello enorme Quindi abbiamo quattro urli giusto Si Non sono tre Solitamente il gioco elastico Tenne da quattro Beh Comunque non ripara nulla Cioè nel senso Six speed È proprio zero Dobbiamo provare a scendere Per vedere se c'è l'ansia Oppure cosa dobbiamo fare Dobbiamo andare sotto comunque Andiamo Vai vai Scavate scavate Madonna ma chi siamo Hai beccato la terra Trafollo Hai beccato Marco Va bene C'è la tua zappa Che sbagliato Oh oh Calmi un po' Credo ci sia un'ansia in silico Non credere Dici di no? Siamo almeno 21 Eh adesso si è a chiamare Wow Scendiamo ancora per di qua Ma mi sa che non c'è un cavolo Oh e invece signore C'è? Godo Eccoci E niente Domi è fatto No ma che fai Domi Non sono stato Non sono stato io Vabbè Cil fa niente Abbiamo tre urli? Sì quattro Adesso tre sì Allora che co Carriaci vai Occhio Occhio allora Vi spiego come funziona Mangiare fa rumore Cambiarsi l'armatura fa rumore Lanciare qualcosa per terra Fa rumore Ok Quindi evitate di lanciare oggetti O mangiare o cambiarvi l'armatura Mentre siete vicino a un sensore Infatti ho lanciato tutta l'arba qua Equipaggiate pure quello che vi pare La zappa se me la dai per cortesia Certo Tieni Ti serve ancora la zappa Anche se mi vuoi te la do adesso A me non serve Ok Datemi solo un attimo L'obiettivo adesso è fare l'arma L'essere di torci servono a qualcosa Scusatemi No boh estetica No no Ok Chi è che l'ha fatto partire? Ehm Ops No Checco spero Almeno Fammela godere un attimo Checco No no colpa mia Stavo prendendo l'arma Non Ero Oh al pelo Perché vabbè Ero a sette blocchi Tecnicamente i sensori Prendono a sette blocchi di distanza Dall'ansient Cioè dal Il suono Ci rimangono due urli? Sì Tecnicamente c'è un timer Si possono anche resettare Però non so È questo timer Allora io vi consiglio Ehm Come via di fuga Quando vi dirò di scappare Perché non c'è bisogno di scappare subito L'importante è seguirmi sempre Non andate in panico State sempre shiptati Seguitemi Lo vuoi? Cioè sono ciccioio sul gioco Ve lo dico Sono lento Lo vuoi? Vai vai Ne ho un paio Scegliene uno Questo è al centro Hai un ambil Hai un ambil per caso? Sì ho anche il ferro dietro Ne avevo molto di più un tempo Ma vabbè questo basta Ho anche il legno Perfetto Vabbè giusto Beh no Gliela lascio Allora comunque In caso di panico totale Ok Ehm In cui lui Vi attaccherà E ve lo dico io quando L'idea è di Prendere e scappare Ma verso Sopra il portale Del Del warden Poi voi andate sopra il portale Siete salvi Perché lì non vi può prendere Neanche sparare Vi sentirà Vi vedrà Tutto quanto che va bene Ma non vi Beccherà mai Bello sto sonno Di grogno Aspettiamo che Vieni 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 Ah era la mia shulker Questa arancione Vabbè la potrei usare per terra Ma se io rompo La lana vicino A un Uno spawner A far rumore Sì 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 La lana fa rumore Anche rotta Se non sbaglio Qui c'è una cesta Ma c'è lo spawner Do mi aspetta 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 Con calma Io non so dove voi siete Davanti Vedo tutto dritto Tutto dritto ci siamo Ah ok Qua c'è una cesta Eh infatti Sì Do mi aspetta Vieni qui Facciamoci una cosa per volta Non andare da solo Avevo perso Eh ritorno indietro Eh bisogna prendere Ricordatevi che potete saltare Da due blocchi d'altezza E non salite sulle scale Che fanno rumore Vabbè la shift Ok Sì è una zona tranquilla Potete aprire la cesta Adesso ho già l'alberto Non c'ho niente Ok E io le spacco le ceste Solitamente quando Non sono utili Questa cosa qua Non dovrebbe avere sensori Perché tantomeno Le abbiamo rotti Ok Non c'è nulla XP Vabbè nel senso Potete l'aprire lì Tra che dici Ah hai ragione Anche di checco Eh lo so Allora 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 Per di qua Non ci dovrebbe essere nulla Ok Qua c'è un'altra cesta Si può aprire? Non vedo urlatore Eh occhio Mi sa qui sotto Può essere Non lo so Lo vedi? No No Apro? Vai 2 miliopi? Buona Uno a testa Uno a me Non ne ho Eh no Non so Domi No Ho 3 miliopi Occhio Urlatori eh Lo dico Se spawne lo combatto No 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 Stai buono Non c'è bisogno Ok va bene Questi qua Non c'è voluto molto a convincerti eh Non è di convincerti Ma dom ma qua è pieno di spawner Sì 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 ma infatti adesso gli sto disinnescando Dommi non fa rumore per favore Allora ok Uno non è disinnescabile Gli altri Neanche quello lì che ha marquis di fronte E questo per forza dobbiamo farlo urlare Sapiamo sta cesta A meno che Non facciamo un isolamento più grosso Ma comunque la cesta è attaccata al sensore Che è attaccata alla Dai fa niente Facciamo urlare Eh aspetta no Allora non come viene a sto punto Tanto non spawna Non spawna Non spawna Non spawna No no non spawna Per forza sta cesta Vai Api chiudi proprio Un'altra melopi Ok Ok stop Andiamo a vedere sta zona Scusami Adesso spawna al prossimo vero? Eh è possibile No 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 Aspetta si spawna Sopra il portale? No se spawna Mi segue E stai tranquilla No bro Se spawna e vi dico di scappare Voi andate e volate sopra il portale No mi È spawna Ok Che co No no che co Bro bro Ok Che co No un altro regalo È spawna un altro E io Tranquilla Venite No 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 che co Che co C'ho paura Che co C'ho paura Non vi attacca Non vi attacca Allora L'obiettivo No no bro No Domi Ah ok con noi Perfetto Zitto zitto E lì Ok Possiamo andare qua Domi devi togliere Ci sta seguendo No no Che co Nulla qualche libro E basta Ma tu come fai a stare così tranquillo bro Ah perché so come funzionano i warden Un altro Un altro warden Va bene Tre warden Fanno compagnia Sì ma forse non è sempre così Io farmo lana comunque Eh io sono dietro Ma un po Ok Ok E con cosa salgo Ebbè rompi i blocchi Non ti fatti rispondere male Qua c'è Un'altra cestolina Eccoci Molto vuota Una palla con efficienza Prego C'è un libro con un curso No non c'era mod Allora Là c'è un C'è un arrellatore Ma come il silent Ma state scherzando Nella scorsa cesta No bro c'è vicino Mi sa Dai non ci credo che c'era il silent No che come tu ti muovi Io non posso muovermi Non posso salire Aspetta perché Mi dicono che c'era il Il silent dream Ah io non ho visto Ragazzi È un problema No Bro ce l'ho con te Con chi No no con il che Ecco È vero C'era il silent dream Oh È partito Che vuol dire È incazzata con me Salite sul portale comunque Domini Le donne mi lasciate solo Dov'è il portale Ecco non dirò Non mi frega nulla Io corro Possono spawnere 70 warden Io vado via Domini Ti sono attaccato al culo Il portale non è molto sicuro come zona Vabbè però è abbastanza alto bro Sì ma c'è un warden Ah Ok ora non c'è più Top L'ha ucciso? No è andato via Eh sì l'ha ucciso Ah beh vado È un po' una concezione particolare tua Ok C'era il silent dream Davvero Un altro Annusami Dove siete? Amore io mi sa Cosa? Io sono sotto il portale Sotto Ok Eccomi Che ansia ragazzoni Che ansia ragazzoni C'è non si creda Oh Domi Non ti conosco No bro davvero mi sto cagando addosso È sotto di noi mi sa Eh no ma sono tutti triggerati con me Oh che top Io sono sul portale Me li faccio un attimino calmare No è perché ho visto che sul portale Non sempre ma Spesso spawnano i Ci sono gli urlatori Non sempre ma qua ce n'erano tre Infatti mi sono spawnati tre warden sopra Almeno ho disinnescato la zona Perché altrimenti ci spaccano il culo No no ma adesso è una zona sicura il portale Però a volte si atterra sopra Che si è in panico Ci stanno altri warden che spawnano Ragazzi non ci credo che ce la sanno Ma è una cosa che capita comunque Niente Sapessi quanti ne ho fatti Non ci posso credere Vabbè tra poco ci calano Ne ho cinque incazzati con me Madò Cinque E fammo il zesto va Due Tre A posto Spawno il zesto Niente No 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 Dommi dove sei? Non ti conosco Ma che vuoi da me? No ragazzi Ormai il silence è desponato Dora un minuto neanche Comunque c'era veramente il silent dream Pazzesco 1,2% di possibilità di trovarlo ragazzi Pazzesco Dov'è quel? Eh l'ho perso Ormai Dommi comunque non per dire Ma c'è un warden dietro Che sta arrivando da te No ragazzi Ormai è desponato Eh io l'ho appena spawnato invece Ok uno da me è desponato Ma che dici? Da dove? Dov'è? Eh dietro di noi Un'altra è desponata L'ho fatto spawnare apposta Perché mi piace quando spawna Ah Bello O fai una striscia e faccio un'altra Non danno Pippa Ok da sposta Basti Ho cambiato idea Non sventila Provo c'è la mia C'è la mia No domino mi devi far così Dai Brucci li possono spawnare due Sopra la testa Ho capito ma non mi vuoi far così Che cosa ridi? Sei perché rido No Ha proprio sentito Sei perché rido? Eh Perché penso alla parola Palle Domini vai via Brucci abbiamo warden davanti Mi sa Non per dire Possiamo ritrovarci sopra il portale centrale Che stanno usando? Che stanno mi fanno? No mi Andate sopra il portale centrale per cortesia No no Io a me piace affrontare gli warden Non più in realtà Ragazzi Dov'è domini? Non lo vedo Sopra per ritrovarsi per cortesia Al portale Al portale Checco viene al portale Ma dov'è domini? Checco Ok sei andato via Godo Andato via Andato via Allora Checco Portale destra Eh Sì Aspetta arrivo Qual è la destra di un portale? Guardami Guardami Ah ok Ok seguimi Eh questa qua è la zona safe comunque in cui dovremmo ricontrare Siamo qui Eccoci Top Lo sapevo No è spawnato È spawnato Eh ehm Eh sì Vabbè non importa Ma che è il cello ragazzi Sì ma è un mio amico Ormè è il nostro amico Sì sì ma funziona così Solitamente Vuole in giro Qua c'è una cesta Non so che è entrata comunque Ciao Marti Qua c'è una cesta Marti ti ho superato Vote Non so scherzo Io voglio andare a saluto un attimo il warden 5.000 tu scusami Puoi andare se ti dico io Quando è il caso che non ci vai più Se vuoi Ti faccio la supervisionatore Dimmi Hai delle pozioni o delle polvere di blaze Che devo farmi le pozioni di stante Ok eccolo Sì e no Nel senso che ho la blaze Non ho Nient'altro però Ma dove sta andando? Ce l'hai tu dietro Un giro Eh la gunpowder Ah perdono Sì la gunpowder sì No 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 Ah caspita Allora No mi mi mando Tranquillo Tranquillo Non si avvicina Non ho occhiata Però tra poco si incazza È un problema Gekko No Per adesso non è ancora un problema No no È normale È normale È normale Bruma come fa a stare così tranquillo? Perché è tranquillissimo lui Ok Questa mi serve Questo mi serve Anzi questo buttiamolo via Tutta questa roba non ci serve Ragazzi questo via Il libro Me lo porto L'arco Posso portarmelo Ma sì dai Che co Che co Dai Ora mi vuole morto Basto E Onzi Benvenuto Ora mi vuole morto Oh 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 È spruito un altro vero? Vabbè ma Nel senso l'altro Non è un problema Ragazzi Sto lo so che penso Che non mi Dove mi sa che muori Se non ti vuole Senta Io morio per colpa vostra Io impazzisco No ma dove sei? Io ho Boh dove mi porto il cuore Ah che co Tieni va Ma vai sul cento del portale Cosa me ne faccio? Ah la mia cana da pesca Io pesce Prendiamo altre mene d'oro ragazzi Ah bro ma proprio brutto comunque Non mi vedo niente Non mi vedo niente Per le mene d'oro Perché prendiamo altre merucci E poi ci facciamo Martì Penso uno stack No Stacc nuovo 16 pro Martì Martì Scusami se ti disturbo Domi sta per morire da ward In un attimo Non voglio Ma non ci sente Martì Scusami 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 Martì Martì No vabbè Ma sono state legame No no Non ti preoccupi Scusami Scusami Oggi adesso Prendiamo altre melucce d'oro Sì sì E' stato E' stato Quell'altro Aiuto Ragazzi E' Domi Mori dal warden Cazzo Bellissimo Ti chiedo scusa Chiedo scusa Tranquilla Tranquilla Ok andato via Ok Cosa c'è Uno L'altro L'altro No però Vabbè L'altro Lo vado a salutare E andiamo 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 E ma non so dove Se Domi Venisse sul portale Domi vieni sopra il portale E vola Vola sul portale Sopra Io voglio andare a salutare Goal warden Guarda E' simpatico Guarda che puoi andare a fare Andiamo vieni Puoi dargli anche un pugno Ti tagli tipo quattro cuore e mezzo Tre Dov'è il portale? E' al centro di tutto l'hancent Ah bro? Che cos'è? Eh ma ora mi vuole morto Siamo sopra il centro del Cioè Il centro del Chi sta picchiando? No Ha preso da me Ah Io sono ancora più sopra del portale Sono Marco Aspetta Torna indietro Dove sei? Che è qua al lato destro? Ma che Aspetta amico Ah bro c'è vuol dire un arrabbiato sotto comunque Oh guardalo quanto è bello Madò Come si chiama? Diamogli un nome Gino Gino Instant karma Eh dai no Domi Guardate carica E' incazzato duro Io ve lo dico E' rigido Domi No e dai Madonna Vieni qua Vieni qua No Su Domi sta Aiuto Paura paura Domi Ah Ok no si è calmato Si è calmato tecnicamente Oddio No mi vuole ancora morto Eh niente Ok calma 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 Si è sparata la camomilla Andiamo scendiamo giù tutti quanti Via No Domi Io ora veramente Che cosciente anche te Eh dove andiamo Non lo so Qua c'è la lana Qua c'è la lana Ma rica ne spawniamo tipo 40 Ma perché non ti sponi tu in faccia Ma esplorala Si sponi con un'altra parola Abbiamo ancora aperto neanche una cesta Mi sa già Nel senso Tantissimo ancora Occhio che è questa un'altra zona Con un diamante bellissimo Eccoci Ma io non ho fatto rumore C'è il citato Vabbè Oh Eh Cosa Niente C'è solamente una godeple E basta Ragazzi Prendo le pozzine di cura Mi sentirò un po' più tranquillo Ragazzi c'è un warden davanti a me Io non vorrei dire nulla No Tranquillo Tranquillo Oh ok È un cane Sì 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 Vieni qua Vieni qua Dove sei? E dove ero prima C'è cosa Io sono Oh c'è davanti il warden bro Io vedo Domi che è stacca dietro a muretta nascosta Guarda che Io c'ho il dava Non è che ti guarda Non è che ti guarda Non è che ti nasconde Ma qua 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 Dove siete ragazzi? Dietro te Ah Eccolo Ma lui non sente vero? O sente? No lui odora È l'unica cosa che può fare un altro po' Ah 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 Tagli fuori qua Ok Cos'è? Ok su Ma non lo renderizzo Perché c'è anche su bassi Vabbè Vabbè il nostro amico Ah ah Eh mi sa che Sì no Chi c'è odore il c'è odora Cioè quello è normale E cerca sempre di avvicinarsi a noi Avvicinarsi Ma domus Domus Vieni Bro Io voglio quei diamanti Ma va Stai male È andato via? No un altro È quello che era incazzata con me prima Ah ok Fai punto schiamati a texture pack Alpini Oh C'ho l'invento da via Bruse pazzo Oh Tiene Bruse pazzo Mi ha fatto sfumare un altro Mi ha fatto sfumare un altro Non mi rispio Mi conosco Mi conosco Mi conosco Mi conosco È arrabbiata con me Eh c'è un altro che Uno si è arrabbiato con chi? Con me Con me Ok Ma se mi è arrabbiato con te Lui tu hai detto anche me Ah Non Lo so Non l'ho mai sperimentata questa cosa Voglio farlo Vuoi provarci? No Lo fai con la pettorina Il fatto è che Devi Correre tanto Perché C'è quella pettorina Ok Sopravia i colpi Il problema è il raggio Il problema Adesso mi sparerà sicuramente Con quel raggio ipersonico Insomma La fess Vogliamo andare sotto il portale Che c'è una stanza Ma cosa te ne fai Dalla stanza della redstone? È una cosa figa però Non l'ho mai visto Eh domi non l'ha mai visto Aspetti un attimo che si calmi Perché se no mi distrugge Vai vai tranquillo Ah domi C'abbiamo un warden sotto Però nessun problema Mi stanno usando Però mi puzza il culo Quindi credo che Non lo so Però un po' XXX mat C'è chi è in tasca Regà comunque Mi sto divertendo un botto È davvero figo Guida turistica Easy Lasciate un bellissimo mi piace Mi raccomando Non sta ancora lì Non sta più Casha Non gioca più Domi? Pinuzzo Sotto al portale Dovemo andare quindi Aspetta 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 Sì chi è quello tipo È calma Il fatto è che Mark È stato al po' vicino Mi so Ok No no ma è calmissimo Anche lui Cioè Ma probabilmente Non hanno nemmeno No ma sì infatti Ok Comunque possiamo andare sotto La stanza è qui Domi Eccola qua Qua sotto è verticale Aspetta una cosa Ma lui non ci picchia da qui Oh sì Se c'hanno uso sì E da qui come scappiamo Ah 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 Come siamo entrati Ma che serve sto posto Io posso uscire tipo piccolando Dalla parte opposta Qua dentro c'è un cane da ammazzare Perché poi se basta C'è corriamo perdi qua No ma è una porta Ma che serve sto posto Ah per far vedere Ai giocatori di Minecraft Come funziona Redton Ah Tipo wow Domi qui puoi correre C'è la lana tranquilla I pistoni si aprono Beh effettivamente serve L'ansian city Per Per insegnare sta roba Sì sì è vero Beh è necessario Ragazzi ultima live Perché la big hardcore è finita L'ultima live sulla big hardcore Sto facendo bordello Sono pazzo No ragazzi Se spuono qui io muoio Dov'è che è qua? È qui bro Sei pazzo Un mancamento Scusatemi Ah no tranquillo Però questo ci sta odorando vicino Sì no no Lo sa che siamo qua dentro Al quello è sicuro Eh vogliamo uscire? No però adesso è ancora tranquillo No no Ci abbiamo Darkness Che tranquillo Eh io non ce l'ho Darkness L'ho tolta Io pure l'ho tolta Ma ragazzi scusate Se sto qua secondo me Mi dà una bella musata Forse È un problema No tanto in un uno per uno Non passa però Vabbè in caso Voliamo sopra con l'altra Si scappa Grazie Degepilone Cosa è successo? Vabbè la vedi fuga quella dietro? Sì ma tanto è tranquillo Per ora Sì comunque lo stiamo stuzzicando un po' troppo No ma usa la zappa e rompi Ma no No ma c'ho paura Ma con la zappa lo rompi Lo voglio rompere io Non so non so se ce ne erano altri Ma sei troppo forte Marco Assurdo Ah mi piace romper il spawner Ok sulla lana potete correre e saltare normalmente L'importante è che la lana non abbia sopra le Skulk Banes Che sono quelle robe fastidiosissime Mh Proprio brutte Ok Sì no questa qua non è lana Ehm Bello Niente Mi sa che per di qua oltre Domi se mi ripicchi di nuovo No Non ti ho menato mi sa No no era Domi Ma è pazzo Che cosa No lascialo sta Ok Tanto hai swift sneak Perché devi mollare la shift È abituato bro Che dici Questi qua se Purtroppo spaccarli non è possible Ok qui ci sono due ceste ragazzi Ragazzi due ceste qui Però Non vedo spawner Sai che ecco qui Dietro di voi Dietro di voi Esatto Giratevi Giratevi Girate Madonna E niente Spawna vero? Sì A sto punto apro le ceste e via Hai spawnato sopra Hai spawnato sopra Ma certo Vabbè ma te lo faccio io Dove che è spawnato? Era vuoto? Sì sì era vuoto nulla Oh qua c'è un altro di world Ah bro ce l'ho dietro Ah bro No no non ci siamo capiti Ah ma è tranquillo Se ce l'ha con me io tiro No 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 Non succede nulla Ah ok Abbiamo esplorato questa zona destra Ah bro ce l'ha con me No no sta venendo da me No 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 ragazzi Ce l'ho davanti Ragazzi ce l'ho Ok vado via Ah Quanti ce ne sono checco? Due Checco checco Sono tranquille Sono tranquille Sono tranquille Perché ti devi agitare tu se loro sono tranquille? Nove bugi Nove bugi che fa un po' Ridere a torta mi sa Indominate che è rimasto fregato per colpa di Marco Perché è per colpa mia? No Eh niente Vorrò spaccare i sensori Non tre scusate Ma dai tranquillo Ma scusami esattamente Rega comunque Sarebbe domi No no mi sono allontanato abbastanza da non vedere manco di sottofitto Eh rega io mi sa che ce l'ho vicino Non per dire Checco Dimmi Ah scusami ero ad aprire altre due ceste vuote Ma do No bro quanti ce ne sono? Non so del scillo bro Io Ce ne ho sotto all'anus Ok Ok no Bro Dov'è? Ah ti vedo No bro Checco che famo? E' arrabbiata con qualcuno Portale E' arrabbiata con te mi sa Eh sai che si? No guarda che devi andare sul portale Non vedo nulla bro Non hai Ok ok allora Aspetta aspetta Ok vai Trovato fatto 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 Eh non così Ottima mira Non così Dai che al terzo ce la faccio Ma vai giù in picchiata quando ci stai sopra Vai giù in picchiata quando ci stai sopra Posto Ok Eh già sta crescione Non spammare Eccolo Ma hai arrabbiato? Scoprilo No che co Che Non hai preso un knockback Sei tornato indietro anzi Eh Antiché b No comunque è arrabbiato Devi sentire il suo cuore Ok questo ho già appena usato Madonna di dio E' l'essenza d'armatura Oh oh Che arrabbiato? Eh con me Mi hanno usato in volo Mi hai messo a dieci blocchi da lui Dai valla a picchiare Ghecco Ma sei matto Quell'altro è calmo vero? Ma la c'è città tu ce l'hai? Eh sì Toglila Avevi detto che l'avevi toglie Ah ma no no Quella lì sì Aspetta dimmi se è fatto bene Eh Si chiama Aspetta Noi caspita che si toglieva Eh accessibility settings Ok Ok aspetta Oh Darkness quella lì? Si Ho messo off Si Ok si Allora si Ok questo non mi interessa Oh come si leva? Ripeti un attimo Esc option Accessibility settings Ok E poi in basso a sinistra c'è il quarto ultimo Che è darkness pulsing Toglilo Come ho buttato la sciorca gialla? Dove l'ho buttata? Sì no Il modo di 0% Dove l'ho buttata ragazzi? Comunque gli è passata Possiamo Andare Possiamo scendere? Sì 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 E il fatto è di trovare Domin Eh io sto continuando a capire la cesta Sto trovando Troppo immobile Vieni vieni Io ho perso una sciorca gialla Per sbaglio l'ho buttata Vabbè fa niente Eccoci Ehm nulla Meno d'oro Godo Madonna Ah è entrato già anche Eccoci un altro Ma a quest'ora Cianchino Pazzo Checco che faccio? Non ce l'ho sotto Io non ti vedo Ok Ah vieni qua Più tardi andiamo nelle baddors certo Un altro? Sì ma è questa l'indole Dispone ormai Va bene va bene Oh Oh bro No è che dispawni in faccia è normalissimo E spona tipo nel raggio di 5 blocchi dall'urlatore quindi Checco io lo do tranquillità Qua in alto c'è una cesta Vai tu? Vai vai Ehm Non c'è nulla C'è swift e sneak ma ne ho 40 non mi interessa Un altro arriva ragazzi No ma lì non è un ancient Quella lì è proprio un dark e basta Oh la testa Vabbè anche se Ma non serve a nulla se non si vuole uccidere uno schettro con la testa Sì sì ma intanto ce l'avevo fatto Allora Io ho ciso un wither con la testa di wither Fio Ah vabbè ne ho dieci Se volete una è una bella regalo Vai Ah va bene Giusto per il meme Va bene Chi Ah ne è attivato tu Vabbè chill Eh bro è un ward indietro Cioè Ah vabbè sono tranquillo Ok va bene checco Eh ragazzi possiamo ribeccarci un attimo Perché Eh tieni Checco non per dire ma Ma non mi vuole male Ma sì sì bro È mio amico lui Checco Pirate Adesso non sarà più mio amico Ok e quindi che devo fare No 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 Eh tranquillo tranquillo Mi è bastato stare vicino Un altro Ok Dove sei? Sotto dietro di te Oh ok anche lui Eh no era una zona tranquilla Ok Sì 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 no è tutto normale Ok Qua se non sbaglio solitamente C'è una cesta Ma questo è un altro portale Ah no sempre Uno ce n'è di portare Sì 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 Ok ok Sono curioso di sapere quando è che Perché Non è detto che sia un portale Però C'è una struttura Mi ha fatto spawn uno Mi ha fatto spawn uno Dove siete? Noi abbiamo spawnato i dieci Sì bro Sotto ne abbiamo un bordello Tipo Abbiamo un bordello vicino? Che cazzo dammi Eh non so Ma dove c'è il portale? Qua c'è una cesta Buota ovviamente Triste nulla E noi siamo sotto il portale Tommy Se scendi giù Arrivo 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 C'è un bordello indietro Quasi quasi lo attacco Che serie è? È la big hardcore Però un po' Un po' finita È la big hardcore in questo momento Eh sì È uno smollino Un po' piccolo Ma le ceste sono finite no? Eh che co? Eh cosa cosa? Le ceste sono finite eh? Non lo so Non ne ho esplodate molte Ho passato più tempo a scappare con voi Che altro Io vi accompagno Se no Il mio circolo continua Tipo qua ce n'è una E io ho trovato 4.000 opine Eh io Buone Buonissime Ma se ne ho trovato due Allora Vi ne ho trovato tutte No Marco ne ho trovato due E ne ho trovato quattro Se lo sai Abbiamo fatto spawnere il warden Sì ma io ne ho trovato un'altra Quindi sono sette Ma non ha senso Eh guarda che ne ho trovato due qui dentro E una fuori No qui tre Perché due Oh una ceste Ma ne sono spawnate due contemporaneamente Che carino Ma tecnicamente qua non c'è più niente Oh un'altra mela raga What? Ma come un'altra mela? Altre due ne ho trovate Raga io ho sette god apple Non ho senso Io ho quattro Minchia Madomma Oh Ciao warden vicino Sì è con me Con me arrabbiata Io continuo a non trovarvi Io sono sopra il portale adesso Mi sa che mi sono perso io Grazie pedagrics Sono sul portale Ciao warden dietro Grande Bella giocata Ti è piaciuta checo? Sì 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 È al centro di tutto quanto Guarda i pontili centrali E vedi dove vanno Oddio odio Ok ciao warden qui Questo lo picchio Ciao warden che cammina Oddio le mele d'oro le hai Dai quanto ne hai? Sette Ma Di 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 Quelle God apple Ah God apple sette E mele normali 55 Ah beh Se vuoi fai tale Hai tutti i presupposti per farla Oh ragazzi Dai che Scagliamo Sei punti Domi se mi dai le pozioni Lo fai Sono davvero Devi fare le spasciabili Eh Eh Posso farle io al volo Vai Passa la checca che lo fai Forse Aspetta perché non so se ho la gunpowder dietro Potrei avere della gunpowder a culo Sono sopra il portale Arrivo Allora Spruce Questo Stone Le nuggets Questo Firework star Limito a dragonpowder Sì Ti è andato Di lusso Ragazzi abbiamo Eh ma io ne voglio dollare uno Non tre Comunque il luogo più difficile Della serie Serve la zappa Che senso? Eh che la zappa è Un po' inutile Inutile Sai che forse non ho una Dannata Ti è brutto Non so Cosa ti serve? Eh una semplicissima Sbarretta Quella arancione Mi viene il nome Ah la blazerod 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 Sì una Non ce l'ho Fammi vedere Islander c'è sta Ok Sì Eh non c'ho nemmeno No Zero Eh proprio quella Che mi serve Eh senza quello Come lo combatto Eh sì Purtroppo è un problema Sto prendendo tutto Perché te ridi Domi? Ma che ti ridi? Eh perché Per spoglio ho detto Un era in blazerod Ah Eh perché l'avevo sentita Anch'io con la minchiata Però non Non credo ci stesse ridendo Non l'ho fatto apposto Mi sono reso conto dopo Qua abbiamo due Due spawner Quindi ne spawnano due Se io attivo uno No Se io attivo entrambi Se tu continui a stare Sopra No non li puoi attivare Entrambi Contemporaneamente Ah ok 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 Top top Ne spawnano uno E nel raggio di bo Tipo 20 blocchi Non spawnano più In tutti gli urlatori Che stanno attorno Alla warden Perché sono al portale Comunque Io so Oh c'è una cesta qui Che non abbiamo preso E vado a prendere Eh sai quanto ce ne sono È spawnato Eh non c'è niente Che carino Allora Spruce log Block of iron Questa qua Aaron Blyze Ah quindi l'ha trovata No 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 Ah ok E niente Non ti pare Non ascoltare quel pazzo Non mi chiamate mazzo Che parlo Sisco Oddio c'è ancora la tua carota Con lo stick Madonna Ma martyxoxo esce Rientra costantemente Io sto vedendo In giro se ci sono chest Ma mi sa che le abbiamo Aperte tutte Sai Faccio un controllo rapido Io vediamo Ciao warden sotto di me Mi piace proprio Bellissimo Oh chest Lo spawner E' spawnato il warden Lo spawner Perché lo spawna Vediamo Ok Ok ora è spawnato Ora è spawnato Si ne stanno spawnando 75 a botta ragazzi Si però è figo Quando spawnano Si no no Ma Sai che potrebbero essere Nah bro Ma sono due Ma non ce ne siamo accorti Ma raga ma sono due Hansen city attaccate Ma che dice Sai che stavo notando Che era enorme sto posto Raga sono due Hansen city Ma è vero Due portali Ecco perché siete god apple Perché sono dodici In totale qua da trovare Oh Ma raga ma raga Ma è una cosa Rara È rara eh Cioè due incollate così Nello stesso bioma Ma no Ma ogni volta che vado in giro C'è un portale del Del warden È vero Ma io stavo sul portale sbagliato Quando vi stavo dicendo Che lo so Ok ok Che figata Guardate che non è così facile Da trovare L'hai aperta con la cesta Oh c'è un warden qui Sì 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 La fessata Mamma mia Mi fa piacere Un altro Mi fa piacere Ragazzi è rara sta roba Davvero Da Nico Ragazzi c'è un warden che Sì dai Andiamo via Madonna però ragazzi C'è due in un colpo Cosa ragazzi Sto facendo un disastro Gigi tranquillo Tommy Ho fatto sparare tipo Quattro warden di fila Sto facendo un disastro Niente Abro dai Sponiamo Il centro perché What Abro io sto saltando sopra un cosa E non spavo una Ho avuto una cattiva idea Che senso sopra un cosa Sopra uno spawn E non spavo una Perché Stacci dentro E ci stavo dentro E no ma continua a spawnarlo Se continua a starci dentro Tra un po' Mister Nicky Uh Niak Oh Ha preso danno un warden Eh Io sono un warden Incazzatissime Però non so dove siete voi A sto punto Ma bro io mi son perso Tra l'Ensensitive Vado dove trovo chest Vado Ma io non ne trovo più Ma sai vedere la cosa divertente Che Io sono sopra un portale Giro e giro E ogni sottolineo C'è sempre un warden Non so perché Ma anche in aria sta Solitamente io da solo Ne spawno una decina Figuriamoci in tre Oh Qualcuno è arrabbiato Mi sa Ehm Fa peve dove siete Non la voglio più Ma è tutto gestorato Non capisco Eh si mi sai che Abbiamo aperto tutte le chest Oh un'altra Tommy appena apri le chest Rompile Ne ho spawnato un altro Le ancient ci stanno Per l'appunto Le ceste però Magari io ce l'ho fatta La ceste però Magari io ce l'ho fatta Magari io ce l'ho fatta Io che stavo morendo E quella che diceva La meluccia L'arco la prendiamo Una meluccia ce la facciamo È stato bellissimo A bro ceste Ma tipo Ritrovarsi sopra un portale E il problema è Quali dei due portali Vabbè uno Intanto noi saliamo Poi se non sono lì Ciao bro Ciao warden davanti C'hai mai visto Dove Mi sa il portale sbagliato No no Adesso vengo da tu Ok perché sotto di me Ci sono dei warden Abbastanza arrabbiati Eccolo là Oh una sponda di due Ho due warden Indietro Tres davanti la fessa C'hanno tre incazzati No no guarda che non è arrabbiato Sicuro? Nel caso di Domi Ah no Non lo so Cioè tecnicamente L'abbiamo svolata Questa zona è tutta svolata Non lo so Non è proprio E che l'abbiamo fatta un po' a cazzo Perché c'eravate voi Che andate da destra Sinistra sul gioco Quindi non ho seguito lo schema Però sì C'è ben lottata Magari ci saranno al massimo Cinque ceste ancora No zio sto girando In sta zona da mezz'ora Non c'è più niente Dai va Tene scemo Tanti di quei diamanti Ci sono qua Sì infatti è assurdo Guarda che bella zona Qua è in alto però Oh bello Secondo me si può anche uscire Senza picconare da qua Io non trovo più ceste ragazzi Eh allora vai sopra il portale Ci becchiamo lì Eccomi Bene abbiamo beccato quello giusto Bene Eh Hai reso conto Quante god apple Sette Quattro E abbiamo trovato anche un silent dream ragazzi Che ovviamente è andato perso però Grande Dimo un salto Io lo voglio idullare Però senza pozioni Beh le god apple per un motivo Sette bastano Intanto devi morire Eh non voglio Poi non vuoi morire Non era l'ultimo episodio per te Sì ovvio Però morire così Da uomo Scusami Se io ho sette godi apple Secondo te Io avrei un'altra opzione Io avrei un'altra opzione Con le vidra Quale è l'opzione? Ah no fai una cosa Vai off stream Eh che con non ha capito No 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 Ascolta Ascolta qui Ah ok Sì 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 Ho già capito Vabbè ragazzi Off stream Ti ammazzi e poi dici Stop alla big hardcore E mostri la clip un giorno dopo Senza mostrarla però Stavo prendendo dei diamanti in faccia al warden Non so conterà No è tranquilla L'importante è che lui non aumenti il battito Sta tutto nei vibes Ma se io l'ho hitto Lui nel mentre è ancora un po' stordito Mita? Ah sì Aspetta dipende Nel mentre che Così intendi per stordito Con una ragazza E gli vedi la frase Oh aspetta un attimo No la dico dopo Eh ma il problema è che non ve lo posso tollare Rega io se qua Mi muovo ci sono 30 warden sotto Ping pong Oh diamante Lo possiamo uscire con le dripstone se volete Eh? Facciamo il bug delle botole Non l'ho mai visto Eh vuoi farlo eh Vai Guarda c'ho le botole dietro Vai Vai facciamolo Incontriamoci Una barula Vai sopra il coso E vediamo Un attimo C'ho 7 warden sotto Che me non usano Non mi ricordo Ho messo le ceste Boh Tanto c'ho legno dietro Cazzo me ne frega Ah ne ho qua Dove c'è posto Ehm Qui Perfetto Sì la big arco ragazza ancora Non è morta Vai Ma è morto il server Eh mi sa che ho sbagliato portato No sono sul portale di prima Checco Sì 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 Io sto arrivando Cos'è che hai detto Domi? Oh il blocco quello là Con il fondo bianco Il verde sopra Oh c'è Ma lo sculcatalista Eh che fa? Eh niente Eh l'estetica Ah ok Te lo droppa il warden Intanto l'ucido È una cosa utilissima Solo quello ti do Un blocco Dove sei Mox? C'ho un warden davanti Ehm Ok Glielalo glielalo Aspetta Vuoi dire in mezzo a una foresta C'ho un albero davanti Dove sei? Ehm Letteralmente vado sopra il portale Sì Quello di prima Ok Aspetta che lo trovo Un attimo Ehm Dove caspita è? Ok eccomi Eccomi qua Va bene Ehm Vada Eh non so farlo Me lo fai te Ah oh Giusto Ehm Allora dobbiamo cercare una zona Più o meno piatta Dove tu possa essere tranquillo E avere anche le spalle al muro Qui magari è l'angolino Ok Ecco domanda Scusate Dimmi 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 Ho bisogno di sapere la farm di creeper dov'è? Oh è a casa mia Intorno all'oceano Ehm Ti ricordi verso che parte? Perché quello non mi ricordo Ehm Diciamo verso Allora Ma ragazzi Con le botole ci posso morire Secondo voi? Io mi sto un po' cagando addosso Non per dire Comunque ragazzi Mi raccomando Ho lasciato un bellissimo Mi piace Mi raccomando Mi raccomando Tanto è gratuito Ragazzoni miei quindi No No Ok Allora si combatte Si combatte 1v1 1v1 Warden Si? Fai con la spadelligna A sto punto Angolino non so dove sei Marquez Eccomi Due di te Ok Tu ti metterei qua Dentro? Vai alla grande No 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 Qui in angolino Ok vai Cioè in qualsiasi zona è buona Perché l'importante è che tu abbia un muro alle spalle Perché ti attaccherà solamente con il raggio Che fa un sacco di knockback Così tu potrai continuare a colpirlo Anche se ti knockback indietro Ma dopo lo devi mettere da qui? Sì Ti metti il muro questo Guarda così alle spalle E non mi fa un po' di danno? No non ti prende Ti colpirà solamente con il raggio E il raggio Oh scusa mi stavo testando Sì Bel testa Scusami checco Il raggio ti toglie 7 core e mezzo Tu me ne hai tolto i 3 Comunque Se vedi che con la knockback vai contro il muro Quindi non Ok Stavi testando Domi Io Ma la mente te l'avevi sentito da checco Ah me l'hai data te? Con un blocco di lana Sì si affarà aspetto Tipo verso Dove c'è la giungla La giungla C'è un altro villaggio E Domi però Basta no? Ok Comunque adesso dobbiamo spawnarlo e via Che coda è là? Ok L'obiettivo è spawnarlo e portarlo qua dentro Eh raga Come? Voi che siete? Anzi in city Lontani? Meno 20.000 Meno 14.000 Ok se volete aspettatemi un attimo che arrivo Dai spawnate il warden Pure C'è tutto C'è tutto Vuoi un caffè? Cioè mentre che checco dello spawner se vuoi ti faccio un massaggio preparatorio Non lo so Ai muscoli Oh dove è uno spawner? Oh più o meno ovunque Il fatto è che l'ho distrutto Eh sa Eccolo vai È spawnato ragazzi Perché ridete? È spawnato Perché Domi Guarda Domi che sta saltando lì Ok ora devi farti inseguire con calma Deve mangiare la god apple? No 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 però la fatti inseguire con calma Cerca di far sì che quando si incazza Vanno le bottole Eh ma non c'entra mai bro Io vado in ansia Ok allora facciamo una cosa Ti rendo più piatta lo zono Mi sta seguendo Mi sta seguendo bro Sì 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 Si fanno andare con calma Dove sta la bottole? Regà dove sta? È qui comunque Ah Eh sì Eh bro Eh ma che faccio? Che gli dico? Checco ce l'ho con te Oh le Top Tu Sì il fatto è che Ce l'ho Godo Godo Sei un ma... No che cosa dovevo andare così Mi ha caricato come un toro cazzo Ma sei fuori Ma qui lo puoi attaccare easy Ce l'ho unicamente con me Domi di spacco Continua a ucciderlo Domi di... Io ti giuro che qualche giorno... Ma ce l'ho solamente con me E dammi una spada in legno No è mia E me la grafico Faccio così che succede? No 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 Cos'è? Non è successo nulla Domine è spunto da un altro Eh però... Ok ho sprecato una capple Però avevo metà vita Eh ti tagli il settore e mezzo Oh io sono la trappola Vieni Marco vieni Vieni qua Ma adesso sono calmi Marco è dietro la trappola Domi però dai stai fermo Oh man Dove sono sti scemi? E dai io invece Uno in uno Invece? No un pillo da una dalla dalla Scemo Usiamo la trappola Eh ma non fartelo inseguire da arrabbiato Partela con calma Eh niente Never mind Mettiti dietro la trappola Oh oh Adesso? Eh mettiti Usala come... Cioè deve averlo davanti Una parallela di fortuna Ok davanti Posta vai E ora comincerò a spartire solamente con i raggi Eeeh Ah però no Domi Domi sei un coi... Cioè Domi veramente sei un bambino Sei davvero un bambino Dio da mamma 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 Sto male Porca troia raga Oh Guarda come sta correndo Guarda che ti tracca È come un pazzo Oh c'è un bordello Mettete adesso niente Dove siete? Dove siete? Allora sotto un portone Domi devi andare via da me E mi segue E mi segue Ma tanto Quanto ti toglie una spadata di... Cioè sette ore e mezzo Te ritoglie le warden Però non so quanto ti toglie una spadata Sì ma avevo una coda apple Ah ecco infatti Perché non c'è altra soluzione Perché tu sei ancora qui No ma lui lo sapeva Ma lui lo sapeva Esatto Cioè Domi se morivo così Io faccio un mocello Dio da mamma Dio da Domi Il problema è che non so voi dove siate Eh io ora torno alla trappola Che come Perché voi ce l'ho Andate voi Andate Io ci sono già la trappola da un po' Eh arrivo Arrivo Ma io sento un warden correre Cioè corre perché? Non lo so perché Sì Aspetta ma Cioè se io ricevo una hit sopravvivo E poi dopo posso li polare Eh sì certo Però si tenete a due Subito via Dove sta? Ovunque Dipende quale dai mille Ok sono alla trappola Dai bro in trappola Chigliamolo con la spada di legno Dai me lo faccio anch'io Eh che qua è una spada di legno? In trappola lo tu Sì Eh basta Facciamolo Lo bugghiamo ovviamente Bro l'ultima hit Spada di legno Ah proprio Ma sì tanto c'è Che senso ha? Oh no Ah mi sa che l'ho data a madre No la corona ragazzi Non la vince nessuno Non la vince nessuno Tanto non ha più senso Ormai la facciamo Almeno ci facciamo L'avanzamento La spada in legno Ciao Capri E vabbè anche una normale Io ce ne ho una di spada in legno Però non ho una spada in legno E io No non ce l'ho perché? Ti serve? Eh sì Che dovessi Che dovessi tu la spada La faccio in un attimo Che ci vuole? Eh no 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 Vabbè anche io so fare una spada in legno Dico solo che che dovessi tu La mia spada in legno Quella con sharpness Tutto il resto Ah no Forse ho lasciato C'è la capo Non lo so No Guarda Se mi dici dove stava Te la cerco Vado al villaggio e la prendo C'era voi io Non esiste nulla Vedi coi blocchi di carbone E non c'ho blocchi Forse Eh ce l'ho qua Ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho Trovata? Sì 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 Come l'ho andata Ok top E domi però basta Davvero basta bro Fammi giocare Ma io ti sto facendo giocare E si mette lì tra di me No io ora impazzisco Ho riparato l'elitra Ragazzi basta Ve lo chiedo per favore Ci chiama Pimpanko Marcus Basta È che lui godempa È inutile Cioè è completamente inutile Recupera 20 cuori in un secondo Ci serverebbe un supporto Da qualcuno di più grosso di noi Comunque è questa la spada Guarda che bella che è Dammela È in legno È in legno Non sei neanche rotta Vuoi farla Ma questo non c'è un breaking Ma do È a warden slayer si chiama Domi basta Veramente basta Vabbè chiunque basta Eh no perché Domi basta È offensivo Lo vado a prendere Ma aspetta quanti hit posso dare Con la mia spada È l'ultima Può fartere anche tutta Con la spada in legno Eh più o meno Sono una ventina di spadate Inederite E una in legno O due Però c'è adesso più o meno Non me lo ricordo È di legno Allora sei godeppolo di chilo Allora stai fermo Decidi Decidi Devo godeppolare Eba Domi basta 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 bro Fammi portare il warden Dai Dai però fatemelo portare Voglio fare una roba seria Se non mi scassate Non so di cosa parli No bro Sto cercando di fare una roba Stai fermo Ah che fai Eh ma non lo vedo Dove È spawnato un altro Quindi ora Ok eccolo qua Allora Sì ma ci sono due Di warden Ma dove siete No ma tu portatene uno È salito Della cosa Mi viene anche il nome Più Domi Tanto è da Domi Sto comportamento Quindi Oh Cos'era Checco Sì non riuscivo a salire Che era troppo più piccolo No Domi è una zona Tranquilla L'ho visto L'ho visto La mia spada normale Eh checco Non lo so Ma tu dai Tutto in legno Cosa ti frega Tanto ha un breaking Ma ce la con te No 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 Non ce la con nessuno Che sto sparando freccia Per No ma si la con Va nella trappola tanto bro No non va nella trappola A parte che vuole te Cioè vuole me Vaffanculo Ma chi sta prendendo danno Ma dove si fa Oh A chi l'ha dato A me Mi ha tolto quattro cuori Perché Ah avevo due cuori più Come ho detto Eh niente Non posso aggrartelo Ma tranquilla Tranquilla Portalo te nella cosa no Eh si ho capito Ma vuole morto me Poi non te E poi l'ho detto io Amen Eh ma così è facile Non ti attacca Cioè si può fare anche così Ma così non ci diamo 55 Oddio non c'ho scritto Nella regola effettivamente Che non deve essere grata Ma tanto bro Nel senso non è che stiamo facendo No è per dire che Eh beh boh Ma è la sfida Tra te e lui no Anche quello non è Chi si frega Della regola ormai Eh ma si esatto Vediamo Mamma mia che ecco Non ho appena t'ha visto È ancora arrabbiata con me Basta Dove è la trappola? Vicino a lui Domi Se tu non esi da quel buco Ma con il buco? Ce l'ho ancora con te che ecco? Sì profondamente anche Che rompi palle Almeno mi seguisse Che ecco Ti giuro è stato anche un one shot È stato un ottimo tiro È stato anche un ottimo tiro ragazzi Ma ne sono due arrabbiate Sono uno? Non lo so L'importante è che non mi spari Ma Domi dove vai tutto shiftato? Dove sei? Eh sono sopra di te È scemo Ragazzi è in live con Domi Domi e Marques Domi dai andiamo Su join the game Dove? L'idea è Basta faccio questa Così si calmano Che è? Tecnicamente perdono l'agro con me Oh 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 È incazzato con qualcuno Eh Dovrebbe essere incazzato con te Cioè dovresti combattere tu Io ho sloggato quindi Eh sì ce l'ho con me Eh Ma perché scappi? No io te lo porto A me Tu lo devi fa? Ma tanto attaccherebbe Dallo stesso Anche se hai da un pugno Vai vai Ciao ciao Ma non c'è da qui Ok se ne usiamo il portale Ma Ciao che cosa Dove sei? Sono vicino alla traccia Ah ciao Mi sta seguendo? Eh ma da sopra il portale Non mi hitta vero? No È l'unica zona safe Top No non ci sono più Super penguin No non ho le pozioni Io voglio le pozioni per combattere Senza pozioni ci muoio E ride con l'altro E ride con l'altro Mi spieghi Tu da me che vuoi Dopo quando si Cioè non è più rebato come è? Ma basta che sloggi Tecnicamente lui è chill Ah Mamma mia comunque Marco quanto la fai lunga sta cosa Se sloggo piglia da omi C'è acquittato adesso ci sta mettendo anni Ok No ma non lo duello più non lo posso duellare bro Perché? Perché non ho le date di mille pozioni e lo faccio senza pozioni no Ma è go tempo Ma ne ho tre Ne ho tre lo spiegate tutte Ne ho sette Ma ti bastano? Ne bastano due Eh fallo tu lo vuoi fare fallo? No io non ne ho bisogno Nemmeno io Tu devi raggiungere i 6.000 punti Ma che me ne frega? È l'unica che cerchi di convincermi E' importantissimo No se io avevo le pozioni sì Dammi tutte le pozioni splashabili e lo faccio Eh pure splashabili Cioè manco te le sei fatte Le vuoi pure splashabili Ah sì Ok non è più rebato con me credo Eh no funziona così E invece No 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 Io sono sopra la trappola vuoi? Prego Che è sto rumore? Il warden che ha mal di pancio Sto accendendo la cacca Vabbè raga che fortuna però Un'altra chest È spawnato il warden Non ho trovato nulla Bene Checco tu dove sei? A prendere una blazard Beh No vieni un attimo qua Dove sei andato? Vieni un attimo qua Sono andato in un portale del nether L'ho aperto esattamente a destra A cento blocchi c'è una fortezza Ho preso un Una blaze e sono andato indietro Ah ok Che culo No io ti voglio far vedere una cosa Vabbè ti aspetto Eh ci sono Sono sopra la trappola Ok Dove stavi? Eh sopra sopra la trappola Vieni Vieni come è andato Ma ti chiami Eh lo so che mi stai preparando qualcosa per me Vediamo Eh no no Tony se no Non puoi Non puoi Ma io non c'ho lo scudo Basta Stai facendo la cosa? Sì Ti sto a fare Le splash Ok Prego Vai dommi Metti le cose Grazie Giacchè Grazie mille bro Oh ragazzi ma non siamo ancora a 400 like? Tutti un bellissimo like Forza Tutti quanti non lo duello Prendi lo spawn Hai detto Eh ragazzi tanto io lo duello Muoio e andiamo nelle bad words Sì no No nel senso Prendi Che come Sposta l'ottimo distanza Ti devo chiederlo E da madonna Mi sembra un bambino Oh tu sei un bambino Che cagli il cazzo Che come Smettila Smettila che c'è l'armotoro No bro c'è l'armotoro rotta Deve ripararmi l'armatura Prima di dover andare il warden Eeeh Giù di le derete Non c'è il mending E ne è spawnato un altro E vabbè Domi dai C'è un altro dietro di warden Ah ragazzi Io non ce la faccio più con Domi Tanto so che stanno facendo la trappola Per farmi morire A me non lo dollerò Jake Che discord siamo? Eh discord di che Ecco Jake Se ti vuoi unire Beh Non mi hai chiesto un cazzo Marco credevi fosse una roba esagerata? No no tranquillo Io vi ho preparato comunque Le splash Cose Se volete le splash Io ve l'ho preparata Eh sì sì Dove essere le pozioni di cura Non puoi no Ma eh sì Io avevo già preparato L'alambitto Mancano in verità Eeeh Vieni qua Quanti ne hai di vi splash Domi? Eeeh Una shulter Piena? E la madonna Sì Oh ok Cioè non sono splashabili Però si devono fare Vabbè sì Però sono di cura Siete nella trappola? Ok sì Arrivo Oh non fatemi trappole seriamente Vabbè Che poi bro Sei live Ti ricordo che le cose che dici Si le ridicono in chat Eh vabbè Nel senso Se tu ti metti a seguire la chat Non sei professionale No 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 Eeeh Non è che Bro I messaggi arrivano Eeeh La mia risposta non cambia Va bene Domi Però non chiudermi con l'ossidiana Vabbè Eeeh Vai Mettiamo le cose Eh ma sta arrivando Un coso No ma è tranquilla Tranquilla Ah ok Ci potrò avvicinare Oh fermo Domi Eeeh E' entrato Jake Puoi venire su Discord? Se non disturba Eeeh Tecnicamente Da quel che so Ha fatto appunto Schemati a Discord A me quindi Ah ok top Eh ma rega io non ho le pozioni Questo viene Non posso farci nulla Eh ma non ho le pozioni Eh si allontano Lascialo stare Allontano Lascialo stare Lascialo stare Lascialo stare Devo finire di fare tutte le pozioni Vai via da me Niente Oh è incredibile È incredibile È incredibile Ma chi ti sta facendo niente Cioè vieni mi intimo Il problema so io Grande Ok mo è un po' rabbioso però Oh è neanche con uno qualsiasi Con chi? Lo scopriamo tra poco Io me ne sono andato Ah non con me Ok con qualcuno che è andato verso un portale del Nether Eh con me Giustamente Grande Bellissimo Vabbè io me ne vado Finchè non si calma Sto facendo le mie pozioni Le due pozioni Le mie stavi facendo Le pozioni di Domi Eh ma sta venendo da me Ma che quello Puoi stare mentre da me Tanto non ti itano Eh vabbè si Non vedo il motivo di farlo Eh no uccidilo È caduto nella lava Che culo Si gode Si non prende la lava Però rimane bloccato bene Ok chilo lo ti è allora No no fermo che culo Chilo lo tu ma qua Sono già su DS È scritto Jake ragazzi eh Ma guarda dove è caduto Eh mo non riesco più a prenderlo con le frecce Mi sto Sì devo vedere il Warden Ma non ho le pozioni ragazzi Ma che brutti versi che fa Ma Marco Sto aspettando bro Marco non vengo Ma è nella lava Eh sì ok ma non ho le pozioni Ma non ti serve Non è bloccato Non ti può picchiare Se non col raggio Vabbè io mi faccio Con chi ce l'ha? Ah ce l'ha con Checco Oh top Allora mi faccio le pozioni Domino Schulker Bello Ti sta versendo una bella Basca Easy Non è più arrabbiata con me Ed è sponato? No Hanno usato qualcuno Oh oh Ma io ho levato la Darkness Ma la vedo comunque Ci sta Ma perché? Domino Schulker Se Giacchetta entrasse Ah Perché Jake è lì? Razza di polla Domino Schulker Oh Jake puoi spostarti adesso No con calma La scalabilità l'ho sposta Ci sto giocando ragazzi così Giusto per il meme Ma c'è la waiting room È fatta apposta Perché è più attaccato Eh ma io sono scemo Ciao Jake Ehi Come va? Sì te lo giuro C'è la waiting room Davvero non neanche l'ho vista io Io sono appena tornato a casa Jake ci raggiungi Dove siete? Ciao Checco Siamo Ciao Siamo a Eh sì Meno 20.000 A meno 14.000 Minchia Alla faccia di Starcats Eh ma Eh ma che stai facendo? Io ho visto tipo adesso Warden così Cioè io ero tranquillo lì Sul 15 Che stavo andando tipo Verso casa E vedo tipo La vostra streaming Di voi che tipo Andate a duellare il Warden Dico mici che è figo E poi vedo Marco Che tipo si caga in mano Perché non volevo caitarlo Marco Dimmi tutto I pantalini come stanno lì Per il momento bene Ti devo dire Mi serve uno cesso Dove posare la roba però Mettiamo qua Ma non ho nemmeno pozioni di forza Di cose Di tartaruga E tutto quanto Eh ma sai che Nemmeno io le ho più Non le è più? Tu checco per caso È uno scudo O te per caso? No Mi Bella cacate Dov'è? Con chi è arrabbiato? Ehm Con te Di nuovo? Madonna Sì sì Comunque puoi andare Eh ma non ho Sì ma probabilmente Ci muoio No no perché È arrabbiato con me Vedi che in un angolo Della piscina Ti metti Sopra Dall'altro lato Di dove lui Ti metti sopra i blocchi di sculca Che lui è davanti a parte No che lì rischia di tarti Domi Davvero bro bro eh Vabbè domi Gigi Hai fatto morire Aspetta Aspetta Che No Bro davvero Però sei un bambino Bro io devo finire di fare delle robe bro Cioè mi fa incazzare Vabbè Non c'è star Vabbè Gigi domi Cioè però manco a fa così Dai sono scherzo Vabbè bro Gigi Dai lascia stare Come potete succedere Te l'hai presa Marco No però volevo dullarlo per bene Te mi butti nella lava Mentre ci sto andando Ti do la mia roba No lascia stare Che mi dai Volevo morire ma non così Vabbè sto zitto Fammi stare zitto Siamo in live ragazzi Comunque Non si può fare più Confirma morte Non è il permesso Eh no No Andiamo Ma davvero sei morto Oh ah ok No sì Ma ok Ma come sei morto Avevano terminato Ma è morto Prima che iniziò A combattere Sì sì Sono morto Ma l'ha colpito Lo warden No mi ha colpito Domi Nella lava Ho capito Ma è una spadata T'ho dato Io pensavo Cioè io infatti ho detto Che coslogga Perché volevamo fare Che il warden Iniziasse a combatterti Era finita Sloggo io Tu sei morto prima Perché Bro il warden Non lo so sincero Ho fatto sta che sono morto Ma sono morto Vabbè Domi Io non posso fare più nulla Quindi Che devo fare Ti do la mia roba Ma bro come ci arrivo A ventimila A meno Ho fatto un portale del netter Mi fai un favore Mi fai un favore Mi dai le coordinate Del portale del Ragazzi Vado nelle belle No No Ma non posso fare nulla Però io volevo farmi Una roba carina Vabbè Aspetta Marco Che facciamo adesso Ok Ma sto a fare le pozioni Te le do io Ma non ho niente Bruno Non ho niente Inutile Ci penso io Ci penso io Tutto quanto io Tutto quanto io Non ti preoccupare Guarda è anche una warp Of the forest Volendo Se uccide qualche enderman Faccio la cosa sopra la Sì Però mi dà fastidio Cioè volevo Dullarlo per chiudere la serie Come mi ero organizzato Non posso fare niente Mi dà fastidio Cioè No Il content Si tanto ok Che morivo Ma Volevo fare una roba figa E Basta Mi dà fastidio Perché dai Caspita Ma ero programmato Tutto quanto Il combattimento Delle warden E morire così Volevo concludere Vabbè Amen Che vi devo dire No ragazzi Ma A me non interessa Cioè No no Sì ma è inutile Adesso sei dove Davin Ma 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 con feather falling O con una corda Con una corda E niente Ma spero di no Per voi Ma che volete fare voi Ma No ma torna a fight Allora dai Bro ma non ho niente Non ho niente Bro Non ho prendola Ah si ma infatti Per quello ti do io la roba Poi c'è un portale del nether Lì vicino E fai sto achievement Qui Una volta per tutte No perché così poi Chiudola così No non mi piace Eh bro ma non ho niente Hai che pozzini tartaruga Sì sì le sto facendo Io non ti preoccupare 3 pozioni di tartaruga Ti devono bastare Comunque Ma le pozioni di tartaruga Sei mortale Eh ma infatti Ma secondo me Lui potrebbe farlo Anche tranquillamente Senza Ragazzi la big guard Guarda è finita Principalmente non per Vabbè ha fatto un video Steph Comunque ho fatto anche Un video io oggi Quindi se volete Volete andarla a vedere Tranquillamente Che fastidio Mamma mia che fastidio No raga Cioè ma Mi ero organizzato Per dullarmi il warden Per chiudere L'ultima live Ho fatta bene Devo venire così Eh vabbè Che vi devo dire Ma non mi interessa Non sono Ah Bel campo di grano Cioè almeno Fammi finire La serie In un modo figo Cioè vabbè No ma tanto Questa era l'ultima Neve della big hardcore Questa è la cosa Però mi dà fastidio Ragazzi Cioè se mi organizzo Una cosa Perché me la devi rovinare Questa è la cosa Vabbè fa niente Amen Tanto era l'ultima live Infatti non faceva ridere Però vabbè GG Comunque questa roba È una figata assurda Questa roba È davvero una figata assurda Ok Devo rendere al portale Perché non ti sei annullato la morte Non si può Ma tanto il server Cioè Non è per la morte Ragazzi È che tanto ormai La big hardcore è finita Io volevo direttamente Concludere In un modo Uccidendo il warden O magari morendo dal warden E amen Però Dà fastidio così Perché me l'ho organizzato Una roba Sì 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 Ora andiamo Nelle bad words Ora andiamo Sondaggio di cosa Ragazzoni In che senso Sondaggio Sondaggio Perché sondaggio Di cosa Spero Non ho capito Delle bad words Intendete Ah no Sì sì Ma andiamo Nelle bad words Ma tranquilli Andiamo Andiamo Non vi preoccupate Andiamo Nelle bad words Non siete tranquilli Andiamo 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 Nelle bad words Non vi preoccupate No Sì sì Ma si vanno Nelle bad words A sto punto Diccela Cosa No Sì Tanti curi Tu mamma Matti pro Ragazzi Sto portale Porta dal Porta sopra Al nether Ma da chi stai Non lo so bro Allo spawn Ma il portale Porta sopra Nether Credo L'abbia fatto No Aspetta Resta Allo spawn Ah sì Eccolo Zero Zero Eh sì Sì Eccolo lì Porta sopra La Ora sono a casa Di Checco Arrivo Con le Letra Io faccio Il portalino Da sopra La Bedrock Certo Quelli Tornano 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 In stream Sniper Probabile Probabile Sì Sì Build Build battle Sì A voglia Oggi ho recato Un video Scorale Yes Ciao Fra Undici Benvenuti In live Eh teoricamente sì Teoricamente sì Ragazzi Teoricamente sì Ci siamo io Domi Che Coi Non so se Jake Ci sarà Il giusto fa proprio schifo No Ragazzi Sì Ma perché Caspita Mi sono programmato Un live Per fare sta roba E rovinarmela Tutto così Mi dà fastidio Cioè Principalmente A questa roba Mi dà fastidio Vabbè Non posso nemmeno uscire da qui Non posso in qualche modo Godo No Non credo Mirko Per il momento no No ma Nel senso Ragazzi Tanto la bigardo Che era finita Era l'ultimo episodio Solo che volevo Dullare il warden E questa la roba Non mi interessa Che sono morto Perché alla fine Ho chilevo il warden Ho mi chilevo il warden L'importante era Duellarlo Non Fare questo Ciao di steps Benvenuto Buono Giuseppe Dai ragazzi Che io Mi ha spinto nella lava domi Vai a queste coordinate Che ti sto scrivendo No se mi vuoi venire incontro Vieni A casa di Jake No ma in generale Andatele voi tutti Sì è il pupone Guarda che è stracomodo Il waypoint Io se non ho il waypoint Mi impazzisco Dove devo andare io Allo spawn Per me vuoi rimanere la Ecco Questa è una frase che dovrebbe dire Marco Perché sarebbe arrabbi tenito i confronti Dove non te Se di molto al contrario funzioni Torno Non ho capito Ah non ci sta niente Ok io ho fatto Tutta la Fra 11 non credo Per il momento no Cioè Nah Nah non credo Perché è finita la big card Corso ho fatto un video ragazzi È uscito proprio ieri Non l'abbiamo terminato noi Cioè scusate Mi è uscito proprio oggi E non l'abbiamo terminato noi Io ci prendo Un console Ah Mattias non credo Cioè almeno ora come ora Non credo Ragazzi tra un po' Andiamo a fare le baddors finalmente Perché mi sono scocciato Ragazzi Sincero non mi va di duellarlo Non mi va di riprendere tutta la roba Se volete io vado nelle baddors Ti porto la mia zi No tranquillo bro Non voglio Se volete Ma bro ma no Non mi va tranquillo Io vado nelle baddors Se volete venire ci facciamo qualche double Trio quello che volete Squad Vado a fare io con Marks Cosa? Eh se Vabbè se abbandoni per davvero Ok Eh si tanto Sì 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 Se volete venire Domi se vuoi venire Jake se vuoi venire Io vado a cacca altro Va bene Ma dopo ci becchiamo Dopo ci becchiamo Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ciao 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 Do mi vieni Ciao belli Eh se vuoi sì Eh vai andiamo Andiamo nelle baddors Grazie Ciao Jake Ciao Porca troia Ok Le ordinate che hai mandato sono quasi Cioè non quasi Sono casa di marci Allora Ok Ah eh io Invece Ragazzi Baddors Dopo quanto Da quant'è che non facevamo baddors? Ora no Voglio saperlo Da quant'è che non facevamo baddors? Da quanto? Allora Eh Sono Un mesetto? Eh Sì Abbastanza tempo Eh sì Un mese No no Due settimane no Due settimane ragazzi c'era ancora la big hardcore Ragazzi la big hardcore è finita È finita la big hardcore È normale È finita Ehm Mettiamo un po' di music Music Chill Aspettate Ok Chill Ok top Mamma no Ti facciamo un po' di baddors Io non so cosa succederà Ma vedremo Lo scopriremo Sono casato Mi raccomando L'ho lasciato bellissimo Mi piace Che bello le baddors Sì Perché no Ok vamonos Allora Pack Mettiamo questa Ok vamonos 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 Baddors Baddors Ok sono dentro coral Ah ah Io arrivo tra Puc Treppi Sto mettendo una texture pack Ok Modifichiamo un attimo i controlli Che tra F5 Vai vai Tutto il resto cambia Anche oggi Speriamo pochi stream sniper Speriamo Eh No No Dici Non accadrà Non accadrà Va bene Ragazzi secondo voi in chat Quanti stream sniper ci beccheremo Dovrei proprio Staccare lo schermo Ma facciamo Dominici sei Facciamo le trio Si è mutato Pazzesco Ciao cacco Io non mi chiamo cacco Però va bene Facciamo le trio Per me Per me io Ma lo sai che a me non me la da più Almeno come si sveglia il server Eh si alcuni tipo ieri me la data Dopo tipo due settimane che non me la dava Detta così Oddio perché sto laggando Ah ok Un po' a caso va Ok vai Pinvite Sì sì Vai accetta Checco dimmi quando ci sei che ti invito Ah Il ritorno nelle Bedwars Come sarà Allora Pinvite Checco Vai Prepariamoci Già la guarda delle trio Sono piene Prima esci dal tuo parte Ma dai Ma l'ho fatto ieri Stanotte No no Sei entrato Sei entrato Ah Non posso startare Ok vai Ci siamo Ma sai da quant'è che non faccio le BV E nemmeno io da un bot Mamma mia Vedersi live Io metto Vsync Ehm Perché hanno annullato tutto C'è il video se ti prende un console L'ho fatto anche io oggi Se volete andarlo a vedere Ragazzoni Pronti Vammonos Anche perché ci dobbiamo allenare per Coral Cup no Fatta che io do togliere il shader Mannaggia Vida set Tu partecipi che è qua Sì da quello che so Sì Come da quello che so Sì 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 e basta Penso che la risposta sia Ok E io vado subito i diamanti Ragazzi 100 win streak Chi? Noi Ah a posto Chi guarda? Ehm Guardate voi Io lo faccio in lana Quindi esatto Sì sì vai 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 Chill No aspetta Se portate due tensili Andiamo subito del blu C'ho io due tensili Vai vieni Sono ancora a far sbrigare Ragazzi E chi l'ha v... Sono vivo Ok ti vedo Ti stanno in seconda in due No sono tornati da me Ok Laggiù c'è il team giallo Che sono Mela pa... Niente Sono già snapping Incredibile E beh sì è il classico Disgustoso Ma ci ha messo un secondo eh Non stanno bene No povero mela Marco Oh bro io non ho nulla Quello come si è chiuso Eh io c'ho nulla Ehm Ok dove sei? Sono proprio sopra Bro No 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 Io mi sto innervosendo No niente erano in due Verso No 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 Spacco il telefono Vedami Ah Non è niente Sono mostro No Io ho già sul chat tutto Mi dispiace Vai tranquillo Tranquillo Guardate la vita di blu 2 e 6 Assurdo Verde da davanti Eh ma li abbiamo Sì vabbè Mi fa tutti i collegamenti Adesso Ok Come fai come fai Come fai me la power No 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 Ok andato andato morto Uh che nervoso Eh che comantini la calma No 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 Ma sono Qualsiasi cosa mutati Uno ci barda L'altro ci spacca Che delbis Ti per me a banno Ehi blu da sinistra Oh ti ha spinto la fireball Un amato Come non detto Me ne vado via Blu di qua Ma come dire vai via Ma c'è uno dipende Non fa per me Non fa per me Me ne vado via Non ha nemici Non vuole combatterli Che ritorno epico No 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 Perché non c'è Di andarmi una mano Senza il cenevole Tu ce l'avremmo fatta Chico Ma Stavano tanto dei gialli Ne abbiamo due incontro Ragazzi tranquilli Intanto è la prima partita Poi Si claccia Cioè non ci sono problemi Sì sì No La recorativa No Ma ragazzi abbiamo tre team sopra Blu Gialli Tutti quanti praticamente Sì tutti quanti Io non Non ho molto da dire Io odio come nemico A te di dietro No no Inutile che fate shift shift Qua Vai Ok Andiamo al centro ragazzi Vai vai Se mi arrivano a fare il ball Faccio slash Giamecino Non me ne frega nulla Ok posso Madonna Almeno tu ce l'hai Io non ho neanche il kick Me l'ho tolto Perché me l'ho tolto Perché Ma perché ha modificato Adesso passo slash kick Mi dice Fai slash Ban Temp No 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 Questo mi sta mettendo Il suo poderosissimo Finguello Ma tu c'ho tre blu dietro Altro che warden Mi spacco i denti Ho chiesto Alex Ma sono disghissati Ma ragazzi che claccio ho fatto Niente Ah per Alex intendevi il nome della skin Pazzesco Ma io faccio slash kick Mi dice no Adesso ho slash kick Si prova subito Mela power che non snap Vediamo Slash kick Mela power Banana Oddio funziona Oddio ma Ma leggo anche Che cocciccato Mela power Per motivo banana Beh Mo va là No Sono diventato ultimate No Io non la posso spawnare in 1.8 Cioè poi me lo spawnate davanti Io crasho Perché non la posso vedere No ma non si può proprio Dio È in peaceful siamo No però È la modalità che Ragazzi Questa si Aspetta A me non me ne frega nulla Allora Adesso mi frega nulla Io esco dal party Allora io esco dal party È il premesso però farlo È però devi vedere uno Però in questo game Non credo ci siano Di sghesare No 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 Possibile Prova Ragazzi Se succede qualcosa Comando sconosciuto Eh non ce l'hai allora Ragazzi No 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 Non è Non è niccato Non è niccato Dici dici Se succede qualcosa Che proprio letteralmente Troviamo la lobby Dove tutti i team Ci ci targettano La facciamo crashare Sponiamo 10.000 wither No non serve Non serve Tranquillo Questa Sponare anche Basta che tu mi dè delle uova Mi metto a spammare uova in giro Quello fa laggare No Le persone Quello fa laggare la lobby Ah proprio lag Parli non di lag Fps Ah proprio di connessione Niente Chissà Sì ma dammi il tempo Di finire il ponte Vai tranquillo Madonna Come sei prestante Niente Niente Buona vita Buona vita per davvero No 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 Eh No Brum In base È finita GG GG No No mi cagò Adesso Niente è finita Eh 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 Piuttosto Eh Oh no Sisi due Tranquillo Un altro Eh fai nel kill Fai nel kill Fai nel kill Godo GG Pippa Andiamo Andiamo Vai tra mamma Ragazzi Ragazzi No C'è No No Eh no Una bro Non c'ho più No ragazzi Sto in ginocchio Attenta di un giallo Non me ne frega Ma che non c'è più Ah no c'è ancora Ok Ma come non c'è più Un giallo Ok Non c'è più Aspetta che sono Sono quasi moruto Niente screen perché se no Non c'è non riusciamo a giocare così Eh si è ingabbiato qua sotto È qua sotto Mamma mia veramente ma ti hanno abbandonato Tieni È qua sotto Ti hanno abbandonato A me dispiace questa cosa Ok Vai 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 Via A posto Verdi Sono TGF Che cosa è TGF È un clan di povera To play war console GF Ok Io ho Udensity ragazzi Ce n'è uno solo in base Aspetta Che cosa stai usando Rompo io rompo io rompo io Difendete Vai Rimano i giorni da dietro pure Killalo killalo Ok È un altro verde manca X shadow Ma questo lagga Ma vabbè Showmaker bro Ping Showmaker Posso kickarlo Posso kickarlo Ping 140 Se ti porto davanti a me Ma pure questo Non mi hanno mai visto No questo è perché sta piazzando C'è il glitch che se piazzi non Vedi No 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 Stanno andando un po' così così eh Mi erano mancate le baddurst Devo dire No 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 Guarda che Dio è dietro l'angolo Vive il viso ragazzi Tranquillo bro Tranquillo C'è pure giù tu Che se c'è un'altra volta Già ne è così approvvista Dietro l'angolo Che mi sono morso la lingua in volo Sette Ma Marco Ma che cosa ci ha fatto Mentre morivo ha rotto un letto È visto Assurdo Ma Oppure il server che lagga Te l'ha da dove No, ha laggato il server Che senso Ok, questo ve lo so fare Io purtroppo non so cosa sia successo Ma C'è puzza di game mode No, no, no Oh, ragazzi, ma tutti questi chili le state facendo Guarda che se mette la game mode e piazza il letto Rispone Vabbè, dai, bella win, ragazzi, devo dire la verità Facile Io direi easy Un po' gariata Ma io ho visto il giallo saltare Sì, sì, è tutto normale È tutto normale, ragazzi Aspetta che Kiko Mela Power che commenta troppo Sa troppe cose No, a me non lo sto facendo solamente nulla No, no, ci sta, ci sta Kiko Mela Power sai troppe cose Come player non ho trovato? L'ha scritto male, mi sa No, è copia ancora di prima Allora Kiko Mela Power 1672 Ok, vai Si gode Come player non ho trovato Ragazzi, dobbiamo arrivare subito a 500 mi piace Quindi subito un bellissimo like Comunque, ora cerchiamo di giocare meglio Logitech G502 Principalmente stiamo giocando perché Choxgate Perché Sabato c'è la Coral Cup, quindi Adesso uso corretto Slash ban Trattino S Player Time Spec Reason Esempio Ban Fedrikowski 7D X-Ray Ma Ma come in che senso ti dà l'esempio con Fedrikowski Che è l'admin? Ve lo giuro Davvero? Mi dice core MC Allora, prima mi dava player non trovato Quindi il comando slash kick funziona solamente nel lobby di prima Ok E adesso mi dice Proprio core MC Uso corretto Due punti Slash ban Trattino S Player Bello Quindi hanno messo tipo che Ci stanno i comandi in base alla lobby Perché altrimenti non me lo spiego Eh, si dovranno aggiornare tutte le lobby Tanto che si avviano Magari avevi permessi da poco Non lo so Ah, ecco perché Oh, da che andiamo? Verdi No, i permessi non me li hanno Non me li hanno ancora dati i permessi Hanno letto scoperti i verdi, ragazzi Ah, ancora le MC No Ma è l'esempio Sì, ma non dovrebbe proprio darmi l'esempio Cono slash kick Non voglio fare slash ban Non voglio fare slash kick Zenit TV Boh, questa qua è un mio donatore, ragazze Potete bannarlo Oh Svegliati Zenit Svegliati Dai, attraverso No, adesso Ciao, ciao, ciao No, no, no Narcisismo, schiava Ciao, Galilei, benvenuto Ciao, Arturo, benvenuto Anche io, fra Vabbè La power è ora all'MC Ma si deve svegliare Dov'è? Dov'è la roba? No Eh, niente, non ho più niente È tutto lì, bro, vai, prendi No, vai, tranquillo Qualcuno ha swept sneaker No Eh, io ne ho vestito la shoulder Che pazzo che è qua Ah, ragazzi Ci ha schifato un blu Io vado te gialli Difendete Non è vero Corri, dammi Corri Niente Bro, sono da gincione Splita Mamma mia Ho fatto il lettore gialli Madonna, madonna, marques Se ti voglio Sbaccare Che com'è perché tu non c'è mai il claccio Dovevo un attimo rivedere quella roba Ma non ho più le mani Non sono più connesse No, no, c'è un altro tipo di claccio Non è più non avere le mani ma avere i permessi Poi, poi rivediamo tranquillo Ok, altro tipo di claccio, ok Comunque sono con, con light gab, ragazzi Bene Quando è che ci sarà la Morto zenith Noi contro il blu Godo zenith, pippa di merda Niente C'è mister du Non lo fare No, non lo schifo, non lo schifo Ti faccio il tic tac Ok Ok Ti capito Karma, questo si chiama karma Le posto chiedere in favore, dimmi tutto capo Aspè, c'è un'idea Aspè, c'è un'idea Che perci c'è messo Aspè, c'è un po' ecce Troppo grossa Troppo più grossa Raga, ma potete risponare, tipo Provate a killarvi Nel void Abbiamo il letto noi, eh E non possiamo killarci nel void Sai che non lo so No Slash game mode survival Aspè, slash rejoin Vediamo Niente Ragazzi, abbiamo di nuovo il letto Sì, sì, sì Si può? Esci dalla lobby, fai slash rejoin Esci dalla partita, fai slash rejoin No, io sono expectator Ah, godo Sì, esci dalla partita Sì, esci dalla partita Sì, godo Sì, godo Sì, scusatemi, ma È che ho usato un totem Siamo abituati alla vanilla Se non ho un totem per esponare non è giusto Non mi sembra corretto, ragazzi Tante, me l'ho paura Ha perso la partita di prima Va bene così C'è che dare Vai, apposta Ok Oh, quanto ci lascio? Sì, ma me l'ho paura e mi fa ridere Perché? Ha detto palle Perché ti fa ridere la parola? No, no Mi fa ridere, scusa No, mi ha ucciso identificato Non lo identificheranno più dopo che sono passato a casa su No, ho sbagliato Comando Niente Ancora Ho detto palle No, ho sbagliato Volevo fare GMC Ma ho sbagliato È buono il bloc di 60? Sì, io l'ho provato Ci ho fatto anche un video Sì, sì Sto facendo sharpness No Madonna, mi seguo Eh, sì Beh Eh, sì Beh Ho fatto una manovra che Eh, no, no, no Questo non ha No, ecco Ok, bomba All'altro Dai, chi è, chi è, chi è Identificato Toleranza zero Non devi necaparmi Di fronte agli occhi Ma come le keep Io ho sentito un ghast Eh, sei bazzuto Che le keep Cioè, che poi capito Ciao, stella Benvenuto del live Il gasto Non ho perso un po' strano Ma così Dai, andiamo del blu Forza, li eliminiamo Aspetta un attimo, bro Aspetta Aspetta È storto quel punto Aspetta Cami Eh? Scusate Non puoi fare la cacca di sopra È identificato Non lo posso kickare Me l'ho kickata È invisibile È bambino Ha ragione Kickata No, vabbè Tuo padre Ok, posso, posso, posso Posso, posso La power evidentemente ha perso qualcuno in famiglia Oh, poveri Dai Mi dispiace un sacco, ovviamente No, no, no Guarda la vita di blu Slash kick Che è derbis Ok, poi Come si chiama? Slash Oddio, ma non modificano davvero? Non si può più kickare? Ma che cazzo ne so io Godo, me la paura è spiegato un'invisibilità Succhiami il malleolo, Cristo Dio Che pazzo Fai un archillato Mamma mia Ma non c'è Non c'è nì mai te Sono le 8 e 20, sì Sì, più tardi Crudele proprio, diretto Sto entrando in base Ragazzi Sto andando in base Sto andando in base Ragazzi, non c'è il ticket C'è direttamente il ban comunque Scusate, ma sto ponte è creato, no? È legit È legit Ok, no, perché ho appena visto dal sopra tutto rosso Ho brigiato io Ah, ok Ehm Jitter Domi Che con non venire nella base blu No, e chi si muove? Cioè, in verità mi incuriosisce Ovvio che verrà Eh, vai, vai Ti ho tipato Basta Basta No, 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 ragazzi Non sento neanche i suoni Mi avete tolto i suoni del gioco No È la lobby che lago un po' No, non è la lobby È che dopo che spawnate troppi file mp3 Perché sono troppi file queste cose qua Che avete spawnato Ragazzi, ma che cosa c'ho? Ma c'ho Madonna, ma c'ho il foo altissimo Mi sta crashando Bro, ma quanti ne sponati? Eh, circa 600 Credo Non ho portato il conto Mi stanno sparando Mi stanno sparando dei blocchi No, raga Tipatemi, tipatemi Tipatemi Tipo io Tipo io No, sì Sto prendendo Danno dall'aria Mi stanno picchiando I germi per aria Mi mamma aveva ragione Dov'è mettere la frutta Dov'è mettere la giacca Dov'è mangiare la frutta Bro, sono i dippi Lui rimane a volare Se vedi No, raga Non Vabbè ragazzi Così però si può giocare Abbiamo vinto ragazzi Cioè Io direi che comunque A posto No, no Io mi sento un po' violentato Ah, stai inviando troppi pacchetti Ah, sì Macro ragazzi Macro, macro Ho dato un colpo all'aria Troppi pacchetti per il server Macro, macro Dai, ora giochiamo seriamente Ok Sì Sì, ho già letto No life L'ho già letto Cuccio, no Lo so, l'ho letto L'ho letto Poi io ti chiamo no life Perché è la parola più vicina a Gab E non ti leggo Gab Ma io ti chiamo parlando Da mutato Va bene Allora dai ragazzi Seriamente Abbiamo Zero su 13 win Scusami Perché non ci ho calcolato Questi winning streak Prima l'abbiamo vinta Ma so se aver tutto fatto male Comunque Mi sa che Se ti metti in gmc Di stop alle stats Da quanto? Non lo so È una deduzione Vabbè vediamo dai Andiamo Che co? Io ci sono A posto Dommi però Guarda la chat di minecraft E dopo dici che non ce l'ho con te Non ho capito cosa tu abbia detto Ma ti ho visto cadere Va bene così Dommi hai visto la chat di minecraft? No Eh guardala Marco Hai visto che ha scritto quello Guardi 35 Eh esatto Eh davvero Sì bro Ragazzi che sono in lava anch'io Purtroppo non posso rispondervi Col tono giusto Perché la mia piattaforma È anche peggio della vostra Per quelle robe lì Non posso No vabbè vedi Gesù Però così no Così purtroppo no Dai ma guarda la vita dei gialli Che tigrillo Va bene Gabbo Vabbè ma tu ci sei stanotte Gabbo E mori Non ho la confidenza di chiamarti Gabbo Perché sennò ti chiamano Life Dommi e Marques Che trio strano Hai visto visto ragazzi Mi sono rovinato Infatti tra poco comincio a Youtube Comincio a dire Ancora Ciao ragazzi Ma perché io non faccio una cosa del genere? No No Dommi il wither Niente non si può fare una bad dos seria Ma come il wither? No Io non ho fatto niente No assolutamente non si vede il comando Lo giuro Io non so di cosa voi state parlando Ma con le comande non vedete Ma che wither poi? Beh Eh Kiko c'è un wither in aria C'è i demoni in gatto Oddio È ottimo che così faccio la sfida Dei tre wither contemporaneamente Possiamo inovare l'altra con i razzi Il tubo viola in mano Il pull Valle È morto No dai Niente Ma è tanto muoio il wither Niente vabbè Eh no non andare Dio ma che bello che è il wither in 1.8 Dio ma mi sta massacrando Ma stai spasato Ma mi sta Ciao Marco benvenuto Ho lanciato una sfera poca in bocca L'ho mangiata Mi ha dato il wither per 30 anni Cioè diventerò il nonno e i figli sono dei wither Ma sei fuori Sulla tomba ti mettono le rose del wither Oh ma non so Ma c'è uno con la skin di l'arion UGF Che tra yarda No vabbè Mi spacco un dito Mi spacco un dito Ma è vero Mi la power fisso Dov'è il wither? Spero via Ma è andato giù È andato giù Ah ok top Che ridere Oxigate ha sviluppato la simpatia Me la fa Chillato Ok Dimmi favgot Ragazzi volete venire dei verdi tipo Se volete Sono in base scusa Io c'ho un crampo alle mani Non riesco più a cliccare Ti giuro non sono più fluido come prima Ma sono abituato Ma mi fa male la caviglia Non posso Ma chi so Non era quello che intendevo io Ma va bene uguale Ok Io c'ho veramente un crampo alla mano Non riesco più a giocare Sono troppi movimenti rapidi Contemporaneamente Non ce la faccio La vanilla mi ha plasmato le ossa Hai rotto il cazzo Ok no niente Credo fosse caduto Scusate Ah raga Ma in chat me l'ha detto una cosa giustissima Ma facciamo la civica Mentre di fare i 5 draghi Ma sei fuori con la cabeza Madonna Se la me la provo Sarà di cavo il monitor dal muro Raga ma che c'è sto facendo No l'hender dragon E domi Raga facciamo la civica Mentre di farlo a pugni Senti a me possiamo Così si fa Summon No Spoon mob No ragazzi No 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 Ma i draghi in 1.8 Spondano tutto Se non sbaglio Dal prossimo game Gioiamo a serio Promesso Eh infatti Stanno cominciando a rompere Tutta la lana No raga Mi viene da vomitare Non riesco neanche a fare i punti Laga Mi spacco il telefono in faccia No 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 Dai domi Possiamo giocare seriamente Dalla prossima si promesso Ok grazie Ma sti draghi Ho aperto Grazie per i primi La Ma a sto punto Cioè sto game Lo vogliamo trollare Ma no tranquillo Tanto nel senso Non è che Io faccio il pot E me lo rompo E sotto i piedi un drago Ragazzi Ditemi si che posso trollare Sì vai dai Tanto ormai Eh Cos'era No mi Che cosa è successo? No nulla Tutto a posto Dio Ma raga Una roba del genere L'ho vista solamente Quando ho fatto tipo 200 wither in un corpo Ah ma è wither contro Ender Dragon Sì beh Contro l'observer Anche Cioè c'è un verde Che sta cercando di colpirmi Non gli entra Neanche la mamma in casa Oltre che le hit Tranquilli Ma bro ma sta laggando la bedwars Non si può fare Inutile che la rimetti Ma io sono risponato Ma com'è possibile? No raga Non mi entra un cazzo Tranquillo Tranquillo Abbiamo finito la bedwars Hai finito la bedwars Vedo la gente volare Maghi Io sono Un mortale Sì c'è Il giallo che sta uccidendo I wither Con l'arco Sette wither Marco Sei inglobato Guardami Oh Ora possiamo giocare Che peccato Che non possiamo Spurare in world No ma raga Non sto laggando io Ero a 240 fps Che è la connessione Proprio È il server Allora Domi Da questa possiamo farla Seriamente Oh Ok Mi mancavano le bedwars Tutto qua Volevo Volevo Sì sì Quale il problema Vediamo se ci ha contato la cosa Se non mi start La bedwars Potrei insultare Coral Ok Slash stats Non ce ne conta Dici che l'agretiva davvero Ma che cazzo Oh Ok Dici che l'agretiva Sì 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 Sicuro è quello Va bene Noiata Disting a Coral Ciao Ragazzi mi raccomando Lasciate un bellissimo like Che mancano pochissimi like 500 Se siete su tiktok E venite su youtube Mi raccomando Vamonos Allora Chi Chi barda Dai sto giro bardo io Che non bardo mai Vai Io non so bardare Va bene Attacchiamo No non ti devi sentire Honorato me la power Ti devi sentire un attimino Oppresso Vergognoso Disgustoso E non vengono altre agenti Buoni Non me ne vengono altre Scusami Non vengono Palle Palle va bene Beh No bro Niente Ti do una mano Me ne ho fatto No me ne voglio spiegare Che così vuoi venire Sono andando nei gialli Arriva Tanto c'è Palleman qua Che sta bardando Con molta calma Eh questo ha fatto il ponte Deva tutti Ok vai No ti sei messo in mezzo Scusami che No tranquillo Tanto Bello che è B Oh mio dio Eh devo Non ho materiale Ah non ho perso il letto GG A posto Ah god Sì sì È tipo God Ok Niente Mammonos Bam Ma Madonna No 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 vabbè Cataparote è detto No 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 È morto Potete fare Il coso Per vedere gli account Di cataparote Come si chiama D-U-P-P Cataparote Eh cataparote Nessun account Nessun È nel suo più possibile Che cambia i piri Via il modem E via Probabile Ah bro Chi è cataparote allora No è infardibile Perché è un mio meme Ma è di mesi fa Cioè sta malissimo Abbiamo I blu in base Quasi I gialli Eh Io non Criatura Bardatura Ho fatto il letto è blu Non è blu Blu Vai Sei suicidata Ok fatti il letto Fatti il letto Fatti il letto Fatti il letto Resistica Dove è venuto Fremi Madonna era sbaglio Per altro Cosa Non l'ho capito Federicanza Hai le mie franze Sui amici di Marco Non lo so Sai Oxigate Ok Vamolo No no Mi spacco un'arteria Madonna mia No ho sbagliato Che caro C'ho ancora le dita surgelate Non ce la faccio Surgelate E che mi dà fastidio Sì ma il fatto è che ho caldo C'è caldo No Ma sono surgelate Perché non ho ancora la memoria muscolare Ne è stata bene Mera power con la spada in ferro Full ferro Che combattemi che sono full merda Full merda Bello Un blu è caduto Godda raggiunge mio nonno Perché Che fa ridere Sì Marquez che ride niente Marquez che ride Raggiunge tuo nonno Godda Va bene Abbiamo i gialli in base Perché caro è belvo Balbo Madonna Posta posta L'ho ucciso Insomma Vabbè Oh che cose Pronto Inizia a cliccare Guardami Inizia a cliccare Vai Guarda i verdi Vai bro Mi piace questa cosa Aspetta Aspetta È più facile Vai Aspetta Sei pronto Vai 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 Niente Peccato Ma che che ha fatto Un pillar Di Birch Ragazzi Manto Ma guarda Ma guarda Quanti Spettator C'era Slash 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 Ok ce la dava Perché non mi aveva fatta In gmc No ma sto Mela power Basta Basta Banno per Cinque minute Ma non posso kickarle È vero Infatti non lo puoi kick Lo posso solo bannare Cioè hanno rimosso il comando kick Ma non posso fare neanche quello Slash ban È stata bannata È stato bannata È stato bannata È giù mi sento Ho levatome la power E' entrato me lo pieno combo No Va bene Ragazzi Allora abbiamo una win Quindi qui non si può perdere Sì una win Questo era Molto legit No no C'ho una tendinite Collegata a quella win Ma va bene Allora Minimo Per qualche secondo Posso fare un bridge Ma Ti ripremuto Mezz'ora Sono stato lì a tenere il premuto Prima che lo portasse Eh dai domi No Otto blocchi Non Non basteranno mai Si va Sì comunque Io non voglio dire Ma Video settings Quality Custom sky Domi Io Io mi fido di loro Sono miei amici Hai visto? Ho messo il cielo custom Tutto molto più carino Eh vabbè Ma dove sale Ragazzi arrivano anche i blu La? No Ah ok No ragazzi Ho fatto le spade in pietra Buon perfetto Questo me lo metto Ragazzi stanno arrivando pure il blu Tutte quante Eh 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 io Oddio Ragazzi però Ci sono i power ranger in base Cioè non ho mai visto così tanti colori Neanche nella scala rgb Ma sto scherzando 16-8 milioni di colori Allora Ok Dimmi tutti i nick li banno uno per uno Dai Zenitv il primo Ok Sbagliata Perfetto Poi Poi so che No ma questi sono quelli che Todino Eh ah Penso basta per adesso Anche cata parota Importantissimo No no È morto È morto È morto Marti viene nelle bedwars Marti vuoi venire nelle bedwars Stiamo facendo Io mi sto per fare il warden Rega Ah Le stai facendo anche non è bedwars School ward Se vuoi dire che c'è una mano Come ho dato una mano a Marco No Domini Marco dietro Ah Interrotto È scomparso in un buco nero Marcos Ho sentito urlare Marcos È sparito Gli ho tagliato la voce Il microfono Hai presentato La gif No Ciò Cos'era Cos'era È un gatto Non so cosa dire ragazzi Mamma mia Mi sento male Dovi Mi sento malissimo Mamma mia Mi devi d'occurre Quando dicevo anche a mio zio Non ha funzionato Ma Scurupatata è un champion Non per dire Scurupatata svegliati Ah no Vabbè I tonatori No bravissimi Comunque ragazzi Non mi sudava così tanto il culo Da quando Da un bot Ma scurupatata è un champion Ok Sì ragazzi Mi sta sudando il culo Non so perché Vamonos Mi sudo il culo A te pure? Mi sudo le troppe risate Sì sì Pure a me c'ho il culo Che cotto Non sudo il culo? No Ah ok Io sono Boh tipo Senza culo Condizionatore Sì sì Anch'io c'ho il condizionatore al massimo Però il culo mi sudo lo stesso No 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 Sono tranquillo Ma ho ancora stato in pelle io No ma io non sudo mai a quello Bello 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 Ho una skill passiva ragazzi Che come le dici di provare a cambiare Ma sta mappa? Se non funziona tanto bene Ecco niente Mi spezzolito medio Che nervoso Che nervoso Che cazzo È un cappiano È un cappiano No è un cappiano Ok Perché non sto dicendo niente di volgare Ah per te pixelmon Pixelon Niente ragazzi Sono potate in base con le scire No Aspetta No 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 Tu tu No 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 Cioè tu dopo qui dice Non mi devo arrabbiare Non mi devo arrabbiare Non splitta Non splitta Non splitta Dimmelo tu No Ma porra Sono mille comunque Ragazzi chi parla gli che lascio il pc Comunque 3 fps con mille non è male Ragazzi vedo fluido comunque E ne faccio 11 No ma perché alcuni non li ho Sono più sfumati Vabbè Sodo Ragazzi qua vincono le prestazioni Ragazzi quindi come la finiamo la sua Bedwars? Ah non lo so Sono solo che mi stai sputendo lo schermo Allora Apple Prendiamoci le code Apple A posto Spato e nederite Ok Come ce l'hai? Eh Ma in un 8 Eh no ce l'ho lo stesso È un plugin Domi Oh perché sto volando? Ma bellissimo Sto scherzando che ecco non ce l'ho Non posso nemmeno Ma che sparano? Ma perché sei morto? Ma perché brus sto volando? Ma che Ma mi dice che siamo in due vivi Ma nella scoreboard dice che siamo vivi in due Domi questa doveva essere seria? No bro questa non poteva essere seria Io Ciao Ciao Riccardo Ciao Riccardo Ma? Ma? Io non ho fatto È vero che non abbiamo fatto niente Ah Mi sono buttato troppo prima Vabbè No problem Ok Eh sono cresciti tutti C'è noi contro i gialli C'è il nome del giallo Ma c'è un motivo se sono Abbiamo vinto ragazzi GG Marques clown Ban Anzi prima abbiamo due più P Vediamo chi è Così bagniamo anche il main Prima lo volizzi con un po' di roba Marques clown Non ce l'ho Vabbè Ban Marques clown Che motivo metto? Dedimi un motivo per banare Marques clown Bambino di 6 anni con la tazza di latte a fianco Bambino Tazza di 2190 giorni di ban Può andar bene? Ma se non lo devi fare 3000 Arrotondare Ah ok Va bene Ciao Giorgio Ampetronato Ciao Frost Ciao Castafloro Benvenuti in live Mamma mia Ovviamente sono ironico ragazzi Non vi preoccupate Restate tranquilli E per ridere Palle 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 Eh? Palle Palle Ok Io sai cosa che sto mangiando Dico che cazzo ne so Prova a non vivere Però cioè lui E non puoi Non posso rispondere a farlo solo Trova a non che Ecco Mute Fra due sol Permanente Ciao Grazie Ciao John Andiamo Allora dai Possiamo Si sono risultate le stazze Sì Ah non abbiamo ancora una 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 ancora Vai Andiamo Guarda qualcuno Bardi Collegno 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 Io sto abbriggiando Ma fallo tu Ma fallo tu E infatti E fattelo tu Non parlare la lingua No no Gli egizi Lo dicevano Ah scusa Ragazzi domanda Ma per caso voi Sentite il condizionatore dietro Che fa rumore Beh si No niente Ho sbagliato tutto Mi sentite Sì Vabbè dopo fammi un vien privato No Mamma Vabbè dopo fammi un vien privato No pugni Come sua nonna Mamma mia Sacro dei pugni Che spritta ragazzi Ah Bello sprint No ma io Sono entrato per naturalezza Ah tranquillo Bello Io distruggo la scrivania Il mouse Ci salto sopra E poi mi mazzo Nier Ragazzi ma vedete Che le luci si spengono E si accendono Che è un richiamo Da parte del warden Mamma mia ragazzi Riflessi Mi chiamavano Specchio riflesso Buttati nel cesso Beh Sì però basta Ma dove non so più giocare È bene No non anche io No ragazzi mi ha proprio In due Madonna che fastidio Ragazzi c'è un giallo Due giallo in base Che è quello di prima però No boh Non è A me sta arrivando A me sta arrivando Il warden in base Ma ci sta un giallo Che c'ha una skin No c'è una Proprio in casa A me sta arrivando Chi è Xonio Una Potrebbe Due gem Che ha di sbagliato No 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 mi devo fare gli smeraldi Oh oh Che non le conosco Ma per caso è un Fastpeed No 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 Eh dai però Basta Basta Purtroppo non so che skin sia ragazzi Oddio I miei occhi si stanno per Cavare Da solo Tipo il tappo di BTA Senti così Ok ho stasi i miraldi Mi faccio ramudurre in diamante Che covo il fixa coral Sarebbe Te lo faccio vedere Oddio Oddio No No Xonio Stavo Madonna I gialli hanno fatto un Una bardatura Che sembrava un simbolo Fra due sol per me mare Ha detto che L'ho ballata Che co girati Che co girati Mi giro Eh vieni qui Tieni Prendi quello stick E picchia le persone Allontanati da me Ma va là A posto A posto Risolto il problema Hai visto Ma basta Ma che carino Sì sì Ah tra l'altro Marco avevi detto Che questo era un game serio Eh beh Sì è vero No è uno stick di legno Infatti sì Non è gemmc Ma infatti ho fatto Slash terminator Ah a posto Niente Non so anche quello che lo sia Era la sparta One shot One shot Sta nella cesta Se la vuoi Ah no 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 Mi piace il fixa coral Eh non è niente più fixa coral Tranquillo te lo ritro Ce l'abbiamo infiniti Dominion fixa coral Checo Eh sono via Per ora c'ho un termine Non ho blocchi Non ho blocchi Disgustoso Da invisibili Mi stanno attaccando Così scarso Eh scuro raga Io non gioco da Guarda arrivi in bedrock No No è cheat È cheat Quello Non si trova naturalmente Silverfish Andiamo di a k sosso No Ciao chiara Muogliono però Mi devo rizzare questo Io pure mi devo rizzare Eh ci devo prendere un po' di diamanti Eh dobbiamo fare Protection sharpness Tutto quanto Bello Ok vado a fare sharpness Non voglio picciarlo lui Mister dome citta Citta Eh Perdiamo il letto Perdiamo il letto Oh io ho tolto il 5 cuori No Io ho tolto il 5 cuori Con una spada con sharpness 500 Io penso che sono TGF CT Perché C'è Avevo il terminator Non l'avevo uno shottato? Gli ho tolto 2 cuori e mezzo È impossibile Ma sei sicuro? Te lo garantisco Aspetta Ho un dubbio Dici? Mi sa che forse lui non ha il permesso di poterlo usare No 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 avevo già shottato un animal No 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 Ah ok 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 Di base è una spada in dia con sharp 1 C'è un meno io la vedo così Prova non so Oh mio Dio No vabbè io avevo shottato un tizio Oh 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 Cosa ho visto in chat No ma sono moruto Niente Letto già l'ho andato Niente ragazzi Sono nel campo santa La sua shell Che cos'è una shell? Nah bro Eh questo sì Eh sì Questo è proprio next level Sì 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 Cosa? Eh sì sì Bello bello No stai giocando a Dio Mi piace Oh 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 Ah non è che per caso hai fatto sharpness Marcus Eh sì Ah ecco infatti hai applicato sharpness 1 alla squadra Ah vero 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 Me l'hanno detto in chat adesso Sì sì vero vero Comunque nota wolf admin di coral nuovo Perché ha detto questa cosa un genere Dal mister dummy fix a coral Oh ma Oh 1-1-1-1-1-1-1-1 Ok si glaccio Eccoli là Guarda che secondo me hanno le firesage 10 Boh Eccali Merda Buono 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 Madonna cosa fai Dov'è l'ultimo? Dov'è? Dimmi dov'è Dimmi dov'è Il mantello con l'AM Dove l'hai preso scusami Eh l'ho fatto Come l'hai fatta? C'è il sito Per fare i mantelli personalizzati Ah ho capito Sulla Optifine Sì Eh ma non puoi mettere le immagini Do Ah ok Pazzesco Ho dato un portale del nether Ma attento Dove va scappa Vai 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 che te lo fai No non me lo faccio Oddio i danni Oddio quanti persone sto aspettando No E si gode No no game privato no bro È il delirio Cioè meglio Meglio No 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 È sempre il classico bro Così mi piacciono di più Mega glitch ragazzoni miei Guardate il blu Giacchetta Guardate come è scritto Con la skin di carpi Vabbè Non dico niente Stai zitta Veronica Taci Certo Mixelon Certo Ma sto giocando in F5 No Non ero io a giocare in F5 Ragazzi siete pazzi Giocare in F5 è da matte Ma Assurdo Dai continuiamo la nostra winstreet Cioè hanno messo l'F5 su Minecraft Ma non è valorizzato Cioè non ci sono animazioni Magari quando sali le scale Con le robe lì Niente ho sbagliato Perché parlo Mentre faccio i ponti Mi do un pugno sul naso Mamma mia Comunque non c'è contato la winstreet Gada Qualcuno è andato in credit Mi sa il TP Domi No Non l'ho fatto pure prima Allora non lo so Ma Corolla è cambiato tutto storto È diventato suo server Ma perché Perché non l'ho fixa Non ho idea di quello che sono Ragazzi arrivo Ma voi avete lo sradmin Non dovreste essere tipo Dio Con i comandi Eh sì abbiamo tutti i comandi Perché non riuscite a farle Quali comandi Tipo quali No non lo so Tipo il kick Quelle robe lì Kick l'hanno tolto bro Non c'è Ma davvero l'hanno tolto Ma è utilissimo Infatti sinceramente Oh si chiamerà in un altro modo Molto probabilmente Calcia in culo Come vuoi chiamare Kick Slash kick Player Esempio Ban Uso corretto Slash ban Reason No Ban x-ray Si è stato kickato Per palle Funziona bro Devi mettere Funziona Devi mettere una motivazione Ah Ok Quindi funziona Ok top Palle Ok bella motivazione Io stavo provando Ah Adesso si può Oh si può kickare Dimmi tutti i nick Adesso provo Ok si kick Nel nome Insane Vai kick No ma Ve lo sto fai dando Ah è morto Ah funziona per davvero Palle Ah per forza la motivazione Ok 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 Top E prima era Slash kick Al volo E' fatto Ma infatti era comodissimo Adesso devo scrivere anche Stronzate In bosco Banana 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 Eh blu 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 Perché in es Oz struggles Giacchetta svegliati Beh C'è Jake Ma non era Giacchetta 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 Proprio scritto Giacchetta Dato giacchetta Non Giacchetta Morto Ma 라는 Ma avere Mod dei helper Certano Noi Faric Ci da conto Ci da domi 1200 al mese Per il momento No No, comunque Coral non paga nessuno Spoiler Niente Si scherza, ovviamente No No, Bombizzini ha preso un knockback Da qualcuno Ah, va bene, ok, GG Grande, Bombizzini Chi è un diamante? Eh, no Forse potrebbe arrivare dal cielo un diamante No, io non, no Ah, ci sono Ah, è morto Ok, posto Perché mi sposto Ok, questo è per la cesta Sto per tornare galoppando Per fare una sharpness Un bisturi Ma? Ho visto sparire Scusami Apri la cesta normale, c'è qualcosa di interessante Vabbè, nel senso Ma perché io vado sotto a meno 30? Ma? Nel senso a meno 30? Cioè, per esempio, lo stack 64 Una volta che finisci ti va a meno 1, meno 2, meno 3 Ma abbiamo di nuovo il letto Bello Ah, ok, che tranquillo Mi spacco la testa No 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 Ti fan cattico che hai meno tot O ancora non le hai finiti Che senso? Quanti ne hai di silverfish? Di snowball? Stammi lontano No ragazzi, no 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 Grazie di Dio Ma dov'è il giallo? Ma almeno il giallo non è il letto Stavo rompendo il letto a qualcuno che Vabbè Mo faccio un po' di bull jump No ma Andiamo Abbiamo i giallo in base No l'ho preso con la pala di neve e non si è mosso Anti knockback, ho buttato fuori Dai, devi dare la pala Ti piace i pizze? No, no, non mi piacciono i pizze, Veronica I pizziolini sono più carini Sì, ma dovresti andare addosso silverfish del cacao No No, finito i blocchi Dammi, stai venendo ping pong Di Maria Sì 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 Ok, sono vivo Oh, sono Kaskai Kaskai? Buona marca Ah, è il modello, io direi che è una macchina È una marca Le marche Beh, comunque Allora, è ad onore che stiamo giocando le Beddler senza farne una serie Ma sinceramente non chiesi una Beddler su serie Beh, è tanto per prendere Manca un blu, mi sa Manca Power 5 Ok, qui sopra Come Power 5? Si chiama Power 5? For real No È finito, è morto Sto game mi è piaciuto, ho fatto certi verbal jump assurdi Vediamo se c'è contato la winning streak, ma non credo Slash stats Non ce l'ha contata, GG Niente Ma stai tutto in disguise? Ah, no, è vero, si è rotto il party Pinvite Io mi fermo, mi faccio un game pilota e poi vado Che sto Va bene, Kekko double Ciao, ciao Ciao, Domi Ciao, bella Kekko, non mi funziona il tab Pinvite Ck, x Vabbè Come ck? Ck, x, kk, 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 vai Accetta top Double, riusciamo a giocarle? Dimelo tu, nel senso Cosa vuol dire riusciamo a giocarle? Nel senso, sono più fattibili delle trio, no? Ah, sì, almeno Dai, almeno Sì, sì, a voi Però la quantità di snap aumenta vertiginosamente Eh, lo so Ultima live nella big hard con le ragazzoni Regga, moderatore Ma, 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 ma manda un Andiamo Un coso Scusami Manda un contratto Manda qualcosa Devi fare E lo scopri Ora fate i seri Ha scritto il signor Saliux10 Slash kick Saliux10 Seri No Quelli l'ho trovata GG Saliux No, ma come l'ha scritto? Saliux10 Slash kick Ma come Bob Insane Ma Non ti ho fatto abbare? Non mi fa copiare e incollare Ok, adesso sì Ok Ehm Serio Non funziona più il kick Eh, fa niente GG No, prova tu Così vedi che non funziona Perché non è più che la motivazione Non so come si chiama Nemmeno mi fa copiare Ok Control C Control A Eh, kick Magari è niccato Può essere No, no Non è online Ah, ok, no Kickato, 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 kickato Era un test Saliux10 Scusami Ah, arrivo in giro lì da dietro Checo Checo Andiamo Oh Ehm, va bene Andiamo Eh, perdiamo il letto Eh, vabbè però, eh Eh, scappa, scappa Vai Kicko Che? Come si chiama quel nome? Chi? Eh, guarda il giallo Skog Vabbè Non c'è Che poi cambiano anche i P Per rimettere i nomi Perché ho fatto il DPP Non ci sono i P collegati Ma puoi usare una VPN per giocare Guarda gli ping Cioè, ho usato la VPN Aspetta Ma mi sembra difficile Oppure direttamente ogni volta Che crea una canzone Va a riavviare il router Sai quanto ci mette Se lo banni adesso Sì, sì, ma è così, eh Così Riavvi il router Ti cambia il P E non ci sono i DPP Morto? Sì, sì, ma dico Sai che sbatto ogni volta A spegnere il router Ah, vabbè E vi fai il letto? Sì Digi È morto? Madonna Breddo d'unite l'hai spedito Sì, è data una pacca Deva Stun Eh, madonna Non riesco a parlare Potrei Forse perdermi il letto da No Ok Andiamo Da chi? No, forse è blu Ma nulla Ciao Pix, non mi è venuto Eh, Vincenzo Devi farlo dalla console Principalmente Ah, sono No, niente È finita per me No, voglio Sbarrare Tranquillo, tranquillo Dove sei? Eh, base azzurra Vabbè Eh, no Mi tippavo A me salio Slash kick Che urlo maschio No, 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 tranquillo Tranquillo, tranquillo Non ce l'ho dietro Però Però Muoviti Non tranquillamente Vai, vai Boh, basta, basta Eh, bro È diventato È diventato fortnite Questo gioco Sì, ma non devi Sparare No, vabbè Ma vabbè Niente Vabbè Chill, chill, chill Ha subito un DOS È uscito lo gioco Grazie mille Alberto Per i sette mesi Grazie mille Ciao Radieschi Benvenuto Eh, vi ho detto Se guardi il mio video Di te per favore Dopo questa partita Pixel Fine live Va bene Cree code Vamonos Aspetta che cambio Mappa che non mi piace Mettiamo una mappa decente Mh Mettiamo All low Vai Scuro patata Sì Madonna Con Beh, con 90 euro di VIP Vabbè, vai Vabbè, vai Non ci credo che la compri Probabile Kevin Ora come ora Non voglio fare Le ripete di Roblox Che non gioco La bigardo Corre nessuno Le cazzoni Sì, Alex Ciao, Andre Vamonos 351 stelle Ma secondo me Si è fatto Cambiare il nome Si è fatto Mettere il cembro Su un altro account Dici scuro Cioè lui era un altro account Poi ha cambiato nome Si è fatto Trasferire le stazze Capito Può essere Sì, devi pagare 10 euro Per fare sta roba Marty è morta Instant Ebbè Dal warden Eh, immaginavo Sì, sì Immagino il warden Oddio Sberla Sì, ma non è mica normale Stai calmo Io meno Spacco tutto Eh, io non sono dio Ah, sei morto Potevi Non sono morto Sono ancora vivo, bro Ora sì, sono morto L'ha vinto Ah, infatti ha vinto Ma cataparote Ah, ma sono due account Qual era il meme? Cataparote? Sì Ah, quindi non è scuro patata lì No, no Scuro patata è un sorobivente Che mi guarda anche nel streaming Ah, ok, ok Cataparote è un meme Del mio canale Ma non si sa che sia Ah, ok, ok Beh, bel knockback Alberto, grazie mille per 2 euro Buona sera a te, bro Con un cucchiaino da te Mamma mia No Eh, con la No, vabbè Assurdo comunque Assurdo Con la sheer Vai, vai Se vuoi banno, eh Le sheer Sono gravissime Oh mio Dio Il giorno in cui metteranno Il bumper hardware Minecraft Sarà un giorno più Cioè un gioco più Madonna 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 Si è morto? Eh Eh Ma sto qua C'ha la skin di felpa verde Ma si risveglia Domani Si è morto Ho un cuore Ma non posso fare niente, bro Sono morto Sì, perché era Ora viene Parote lì Ti spiego È un mix tra carote e patate Ok, sì Parote Anche me è uscito Un mio amico non riusciva a dirlo E quindi Io vado a coltivare le cataparote Ah no Le cataparote Le cataparote Non riusciva a dirlo Ban Cata Parote Stream Guarda la chat Sono usciti tutti Sniping 3D tratto S Ok Mi seguo Ragazzi lo tiro fuori Intanto cambia lp Ma ho un pulsantino Tra 5 minuti qua Tra il quarto arrivo di bar Che grande Omar Buon viaggio Io voglio giocare chill Di crash E non può fare il livello Dock Perché gli stacca internet Ogni 5 minuti E gli crash ogni volta Al sabato Oh abbiamo speedway Ora apri il ticket Marques mi ha banato ingiustamente Ah Sì No Non apri a nulla Che co che si paccherà è da Marques Eh raga Non gioco le Bedwars da mesi Idem No da mesi no Però da quando è iniziata la Big Hard Una donna Davvero Eh sì Tutti i video che escono Giornalmente Li avevi preparati No 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 Sì ma Nel senso Intendo Finchè fai una Bedwars per un video Quella sì Ma giocare tipo così E darà da un botto Live intendo Ah ho capito Comunque la Bedwars per un video Ti mantiene un attimino Riscaldamento Sì Indiana cake Lo trovi in descrizione il discord ragazzi Va bene salvo Chillare nelle Bedwars Io volevo chillare nelle Bedwars Cioè era il mio Capito Sì 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 Ci sta Capito Ma eh non funziona Purtroppo Oh si fa su pixel O non si chilla Questa è la cosa Oddio Il problema è la connessione Eh quello È quello Giocare su pixel Non mi piace per la connessione Se aprissi i server in Europa Io non capisco perché non li vuole aprire Ma infatti ma perché È occhi gialli bro Marques guardalo lì Quello lì sicuramente è un altro account appena creato Vai vai io difendo la nostra Ma le hit È un pirla Sto qua non si sveglia da male No 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 Abbiamo ingriso in base Non è vero No no Abba È finita Come si chiama dimmi nome Eh 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 te lo dirò L'Oio 90 Devo banere tutto il server oggi Vabbè inizia a banere 30 giorni dai Stream Bello quello Sniping Tratto adesso Ok Bagniamo 30 giorni Almeno Ma tanto li sbannano È quello il problema No 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 Li sbannano E io li ribanno Giusto No se no non si può giocare così Assurdo Vorrei farlo anch'io cavolo Solamente che poi c'è Periz Che mi mangia la mamma Cioè non No no ma mi stanno aprendo in due Come un bubino Ok No raga purtroppo così non si può giocare Cioè capitemi anche voi ma Spazzagli la schiena Morto Dove sei? Dai verde In alto Ok Sto cercando di Dai 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 Ho finito i blocchi E muovo davanti a gengive Non non Oh god è caduto Eh beh Ma andate a prenderla nel culo entrambi dai Ma ero senza blocchi Mi mangiate una faggia già su un po' GG che ecco Genoa la cash bannata No no ragazzi Dai È assurdo È assurdo bro Ma non è che dire che provo a dire Mi graccio Cioè mi lanciano le fire C'è già una povera persona in difesa Che ha malapena i piedi Pazzesco Ma quanti Sì senza armatura cosa faccio Non lo so ma sta canzone che ho sotto mi sta facendo venire male Ma sai che il marchessino non lo riesco più a trovare ragazzi È un grande problema È un big guard col problema Ha solo 21 Sì io sto scelerando Eh Cosa? Dai ragazzi davvero Sto scelerando Ragazzi lasciate un bellissimo mi piace Vi raccomando che manca poco Anche possiamo arrivare a 600 like Perché no? Tra un mese Cosa ti mangi di buono Kiko? Ah non lo so Non devo vedere Se mio padre prepara qualcosa O meno Eh ci sta Eh dimmi che avrà No Non lo so che avrà Ok Questa Allora io voglio un attimo vedere quel Mark Eccolo qui Che count ha 2 pp Ah Mark Mark Sta bene modendo Ban Mark Ban I Wading Beh per sempre A post Bannato Si può continuare Andiamo Mark S S S Era Mark S 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 Perché poi fai 2 pp Non cambiano ip Quindi rimane Abbastanza Però lei è caduta nel vuoto Mark S Nonno Ma sono sempre quei nomi Come fanno 90 Ah Mark S Nonno esiste da una vita Ma lui è calmo È calmo Cioè Beh Ma dove è nata sta cosa Ah no qui tu appena sei morto Lo so Mr.Dominono Carpinono Sì è praticamente tutti nonno È nato che Mark Nonno Non so perché per il meme Lui si chiamava tipo It's blue qualcosa Lui per il meme è cambiato in Mark Nonno e dopo sono partiti in Mr.Dominono Carpinono Sì 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 sono morto 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 E quindi da lì sono partiti tutti Nonni Per il meme Cioè Mr.Blu e poi E poi ha cambiato da Così a caso Mark e sa nonna E poi tutti si sono accordati Ah ma c'è nessun meme No 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 nessun meme No no nessun meme Così a caso Random Ho 22 anni raga No in due però così ragazzi Vi 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 spezzo il padre in due Dio caro Che nervoso Morto i verdi E bro ci dobbiamo fare i verdi Ce li togliamo A posto No ho fatto il legno No mi conviene Guarda Madonna Vai 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 Andiamo ad i verdi Ah ma sono ancora vivi Eh sì Ah li avevo schifati Guarda che ho fatto il ponte dritto Dai no 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 Vamo arrivo No va al canestro Ma che gioco L'ho trovato incredibile Incredibile Just Vito No 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 Non ti leggo e basta Tranquillo Sesso P Tranquillo Ah ok Gli azzurri ci stanno aiutando Stanno andando dai verdi A posto Si gode Ah Godus Ok verdi eliminati praticamente Se riesco a farlo Lo facci tu? Sì 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 Guarda per denuletto tra poco Esatto All'SMC God A posto GG Ole Non lo so Davide lo sai Non lo so Madonna guarda che ponte pillorato È tutto uno sbocco Nah All'SMC svegliati dai Ok Pirla God Sbudellata Dove sta? Ok sta andando di là Oh no Ok Posto Risolto Ma dove andiamo? Ice Dragon 10 Oh no Ice Dragon È morto il grigio GG No che del Oh Tosmeraldi Brometto ossidiana Eh Perdiamo il letto Perdiamo il letto del verde Niente GG Niente ossidiana Niente ossidiana Guarda Jonathan 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 non sta bene No c'è il C'è Ti sembra Mi faccio killare così? Dove sei Checco? Nella base dei verdi Arrivo Soltanati meno il grigio Arrivo Arrivo Tranquillo Il pink non c'è più A posto Acquittato God Andiamo Possiamo andare Team Dimmi un team Oh Aspetta Ti do un team migliore Perché faccio un attimino Questo Eeeh Boh Eeeh Il marchizzone Vixron Anzi i grigi Il postino Quindi se non dal cazzo Il postino Vamonos Io comunque Un mute per Jonathan Glielo darei Posso in te Non ho visto Eeeh Ha scritto una composizione di lettere Con la G Con la E Con la Y Mi spacco la testa Ma dove? In chat su Si si te l'ha scritto in gigante Ah vabbè Non me ne frega nulla No no Ma certo che no Dico Tranquillo Tanto non è neanche un'offesa Nel senso Ma a me non è Si assolutamente Però Per disintegrarlo 10k ponte Oh Oh Sto giocando con Kiko Ragazzi Con questo Cielo SMC Perché ce l'ho Survevolo Cielo SMC Ragazzi Non lo sapevo Ma in realtà L'ho sentito su server Non lo sapevo comunque Dove sei Kiko? Ah Al Camposanto Ah Fantastico Sono dispecto Nel senso Si ma tanto ti raggiungerò a breve No Non dire così Occhio che non è farsa Già sono belli cattivi Ok Dimmi un team Dimmi un team Dimmi un team Hai un Il team di tritek è rosso E Lasciamoli stare E i rossi sono chill Ok Una mozione di invisibilità Vai con calma Vai con calma Vado dai rosa Ok Io si vai a destra Vai a destra Vai vai No Non piazzare Non piazzare Non c'è bisogno Eh ma non posso Capito? Quello Facciamo roba E la madonna Addirittura Ah La testa di Marcus Appare addirittura Hai visto? Il cosmetico Ah il dragon è uno snap mio Troll pure Rossi in arrivo Sì 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 In arrivo Uno solo Ah che è Elvis No lui è chillissimo Si fa killare Oppure lo premobanno Vedi? Ah worka Bello Sì 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 Bello bello Allora Sono Nonno è un fallito Incredibile Lo conosco Perché? Che t'ha fatto? Perché No Marquez Nonno È tranquillo È un po' È un po' Scemo Ah Ok Onesta C'è uno C'è uno sopra Sì no Rosa è andato via Galoppando Troll si chiama sto qua Eh ma tanto Vabbè rimangono rossi con il letto Gli altri sono tutti final kill Deliveroo vieni a me Aspetta che mi incollo dentro il tuo corpo È una cosa brutta ma ti entro dentro Vai 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 Fatto? Ok Sì 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 Ah no potevi fare anche il movimento tranquillo Ah ok Allora Che mi consigli di mangiare oggi? Io? Yes Devi ordinare? Sì Ti piace il sushi? Eh sì ma sono È tanto eh Perché te ne danno poco e costa 25 euro Eh lo so sì 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 lo so No purtroppo il sushi Aspetta che sono morto Ok Eh i rossi ti guardano No 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 Non mi picchiano perché sono libano entrambi Yogurteria Madonna Ma io ti dico bro Se vuoi strenerci il poke Ok Che comunque il poke spacca Spacca Ma è insalata di riso È semplicemente chiamato poke Ma è insalata di riso Però è buono dai Sì ma è insalata di riso Capisci Una roba È riso condito E la gente chiama poke Così alza il prezzo di 10 euro in più No capisci Eh No Insalata di riso Non mi ispira Cioè è buono È buono È buonissima Ci metti tante di quelle robe dentro Eh esatto Capito E poi tu vai dal tizzo Da pochè Bisogna metterci dentro una proteina Due proteine Tre verdure Poi ho contato Ma state male Ma è insalata di riso Con Mettici una mucca dentro Viva Giù lo sai fuori Poi vedi le proteine Pizza Vai vedi pizza bro Buona la pizza Eh bro la pizza Non si può rifiutare Tipo come la Oddio ma prende anche L'old wide west Matto Ma non lo conosco Cosa fa l'old wide Salsa Oh Io te lo sconsiglio È tipo come il sushi Poggi un botto Oddio Western smash burger Eh con lui gli spacca Ah lo conosci Sì Madonna guarda che patate Coca cola No lo mi interessa Patatone bro Eh sì beh certo Certo Ah non devo pagare la coca parte Coca cola da 33 cellule Non mi interessa Immagino Il panino Con semi di sesamo Doppio hamburger di carne italiana Fonduta di formaggio Con scamorza Bacon croccante Salsa texana Madonna Dai bro spacca Pauroso Io stasera ho mangiato la pizza Grande Veronica Io non l'ho accenato Direttamente Ma andrei a mangiare? Eh sì Tra un po' Bacon fishburger Oh Sto a prendere l'unico buco Che non prendo mai Il Vado a prendere i rossi No il problema è che Volevo evitare Burger King O robot del genere Il fatto è che sono I più aperti Sono aperti Che falle Sono i più veloci Mi rion subito Niente raga Altro mcdonald Che falle Ma il burger king Niente è chiuso Eh mi tocca andare di mac Signore Ma vai di pizza bro Ma la pizza l'ho mangiata ieri Che era No l'altro ieri No raga Sushi No Perché divento povero World War West raga è bello Bob Vediamo il West Al massimo ci metto un mese Ad arrivare Western smash burger Ma sai che è La mia Dove sono io Fa così schifo Che arriva praticamente Solo una pizzeria No Da me Guarda che io sono in culo Cioè sono in nulla Però non so perché Arriva tutto Improvvisamente È arrivata anche la gigabit Sono i mezzi Sì sì Ok io anch'io C'ho la fibra Però non arriva Gigabit o fibra misto rame No 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 gigabit 1000 mega Ah minchia Madonna Perché le live Un po' sgranatine Davvero? Sì Ma mi sa che è youtube proprio La soluzione ce l'ho al massimo Tutto al massimo Sì ho capito Ma il bitrate di uscita? Sai che non lo so? Eh appunto E questo è un problema La risoluzione è ovvia Va bene Poi te lo dico Beh al massimo ti dà una manina Per OBS Allora Chicken nuggets La marx e la pizza è sempre migliore Lo so Ma voglio le iniezioni di gluten Dammi il pare normale Cos'è senza gluten Madonna Ma voi le vedete sgranata ragazzi La live Sgranata normale Allora I tacos Merda No 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 Oh ma Che combi Dici dove sono Gli ultimi Scusami Stavo guardando il mio crispy Tranquillo Non Ok Kill davis Ma sono i rossi Allora uno È dietro di te Completamente 180 Ok E vai dritto E te lo trovi in alto Sull'isolo dei diamanti Sì si è visto L'altro Poi c'è il postino che Mi sa che lo devi bannare Perché sta camperando in un buco Dal quale non posso più uscire Ah E infatti sta shiftando È dietro la base Sono morto Ok L'ha chiccato te oppure No 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 È uscito dal gioco Mi sa che l'hanno bannato Spontaneamente Dici No mi sa che Mi sa che Ha ben vinto Si gode Dici Che io non l'ho buttato fuori No nemmeno io Nemmeno io Gioca ancora Ok Bruttino Si vede Un po' sgranato Allora poi fixo Mi sembra strano Va bene poi fixo Poi fixo Ma la state vedendo da pc O da telefono ragazzi Ah no Accompagnato da patate Posto Ok ok Allora ordina Vai Sborsa che co Da pc Sono riusciti a ridere il ban Bravo Non due panini 28 euro Telefono Ok 28 euro Ma chi sono No no Ehi Toglimi Ah no Aspetta Aspetta Vammonos Vammonos No no Vammonos checco Nah bro Aspetta Western smash burger Toglimi per due Mettimi per uno Vai tranquillo Tu fai io Ti difendo Sì Tranquillo Allora la coca cola C'è da avere in casa Le bottiglie Grande Minchia ma non costa niente Però spero che il panino Con le patate sia buono Quindi cos'è che sto ordinando Alla fine Un panino Con patate E mi aggiungo qualcos'altro Qualche porcata Bravo Ok Non basterà mai un panino Mozzarella sticks Nah Chicken wicks Nah Oddio Oddio Olive verdi Panate farcite con patate Scamorza affumicata Madò Chicken nuggets Con la salsa All the wild west Eh bro La salsa All the wild west Bellissimo Il problema è Il prezzo Quanto costa? Madonna 8 pezzi 4,30 euro In più Sono 10 euro Per delle nuggets Nah Bro Stai malissimo No E anche oggi 20 euro Se ne vanno Sto appunto prendo il mac Vabbè dai Mica ti pesano No no Però Madonna Vieni da piangere No a sto punto vado di mac ragazzi Credo di risparmiare Invece Le nuggets L'unica Zona Che ti da la salsa In omaggio E il mac Mi conviene il mac Aspetta che mi levo da qua Che se non ti do Ma di dove sei te? Friuli Venezia Giulia Ok Cina dico solo che il McDonald È l'unico ristorante Che dà l'assassino Omaggio Anche Burger King Per le nuggets Devi spendere uno sprapposito Perché Madonna Perché ti dà l'assassino Omaggio In questa vendor Ci sono dei clan In particolari Devo dire Oh vabbè Uno solo Dal bullone daddy È mio Ok Poi l'altro Non Puoi dirlo Tecnicamente Nel senso È inglese Sì 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 Mandare foto di nudo Non è mio Né Spolve e maio Madonna Arrivano gli azzurri Bro 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 Sono entrato i miglioratori Uno del mio Discord E l'altro del mio No Ok Mamma mia Doria Yaki Svegliati Vai Morto Madonna Per quanto Non lo so Non lo so Ok faccio la matura Sì era per dire Che sono mie snap E 90 Ho fatto Miner Fadig Vamonos Bella Questo qua si è suicidato Per cercare di uccidermi Mi dispiace per la sua vita Devo mordere la lingua CG Non è nessun problema Nessun problema Arrivano di nuovo Unito ad un blocco in testa È morto Io in tutto c'ho ancora ordinato C'è sento l'odore del mac dal telefono Che viene fuori Morto Cosenza Ok Grande Cosenza Raga potrei prendermi anche un kebab Volendo Cazzo il kebab dell'altro giorno Era devastante Perché la venenza è ancora aperta Sahir Mi prendono proprio schiaffi Pisante Panino kebab Maxi Potrebbe essere lui Quando stacco Vedremo Vedremo Non sta bene Alle 22 No Non arriverà mai Mi dice no Mi chiude in faccia Sette delle pussi però in due Sette delle pussi Fatevelo dire God Coglione No bro bro È morto Ok DG Morto 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 Voglio spaccare la mandiva però Curva Bella Ciao Pizza di Abduric Babbaro Domenico L'uomo del lavoro del mac DG allora In bocca al lupo Sti blocchi di fronte allo spawn Però sono fastidiosi Sì Li tolgo subito Tranquillo Che scusami per il disagio Ma li hai fatti te No Li hanno fatti loro Sono azzurri Perché ti scusi Tranquillo Non è successo niente Non è un problema Come hai detto tu prima Non è un problema Niente Volevo piazzare io lì Ma sono sotto di noi Ah non è tnt Non è vero L'hanno piazzata malissimo Ma c'è un pazzo No no L'ho fatta apposta Perché così mi spida su di loro Sì 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 Ok Il parbo jump Ma i verdi cosa c'entrano adesso? Nulla No 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 Madonna Morto? Non sei morto vero? No no Assolutamente Madonna Sporrevo di stare zitto Questo dio Kebab Panino kebab Singolo Madonna Sì Panino kebab Maxi Con cipolla Piccante Quanti anni Sì quanti anni Giorgia gc Bello Tanto lo sai che ci penso Allora fritti No buoni No però bro davvero assurdo I bianchi cosa c'entrano tutti quanti Quindi dai Onion rings Annelli di cipolla Madonna va di annelli di cipolla Oggi vogliono annelli di cipolla 11 euro ci va nel cielo Cosa li stai prendendo quindi? Un calcio in culo Kebab Bravo 6 euro e 50 E 4 euro di cipolla Buonissimo Goddo non c'è neanche il suo prezzo Perché ho Dei vero plus Che goduri Ordina subito perché non mi arriverà mai Ma perché Giorgia se la prende No vabbè però Giorgia gc Che sicuramente sei un uomo Giorgia sei un uomo Così proprio Bam Niente Giorgia comunque appunto S'chiamati OIG nel mio canale Grazie Vabbè no ma su Corel esistono i nomi di ragazza per farsi giftare le robe Esistono ovunque Sì ovvio ovvio Quindi per me ogni ragazza che gioca è un uomo Giusto Ottima filosofia di vita Ma che offesa è No non è un'offesa Durpi È un'idea Non è un'offesa Non è un'offesa È per dire Nel caso in cui lei sia una donna È un uomo Nel senso che potrebbe essere un uomo Che usa Esattamente Non è un'offesa Che poi non Che offesa è appunto Sei un uomo Sì no è brutto essere uomo Eh animali L'hanno chiusa la bigardo Purtroppo Meglio donne Tranne per il ciclo Godo Soffrite col ciclo Godo tutte quante Una volta al mese Io sono felice ragazze Godo Solo una volta al mese Lo segui Con il sorriso Per una settimana Vado a dormire Sorridendo Mi sveglia Con una paresina Il sonno Ma sorridendo Ok Ok Crudeltà Ma guarda che roba No 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 Spolver Succhiami le palle Beh Eh sì È il mio moderatore Abbiamo i rossi in base Comunque Io non ho molta vita Sono imparato Di essere morto Tranquillo Muoglio anch'io allora No in verità Guarda aspetta Trovo la filosofia di vita migliore Ok vai 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 E ora vediamo Vediamo Merda Spolver Madonna No 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 è da Devo banarlo No non deve Non deve Ah lo sticca del KB No 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 Mi ha umiliato uno Che non c'ha le mani E quello è il problema Lui starà godendo E quello è il problema Io lo so Che starà godendo Io lo so Madonna Spolver Madonna Ringrazio che non c'ho le mani Spolver ringrazio Abusa di questo periodo In cui io non c'ho ancora le mani Ora si lo puoi banare Comunque Ma esiste ancora Ultime teta Kik Ultime Ultima Kik Ultima Teta Ah Crypt E fammelo scrivere Kik Ultima Teta Sei un Pollo Trattino Esco Play e non trovato Non è online La vostra madre Svegliata Ma non è online Ah e allora Non ti saprei dire Sinceramente Ragazzi Disgustoso Ciao Eddie Big guardo purtroppo si ragazzi Madonna che buio che c'è qua dentro Ma accendo una torcia Se non sbaglio in sta mappa Ma mettila E c'è una netherrack E c'è la netherrack Con le fiamme apposta Per far luce Aspetta la faccio io Ah non ce l'ho No che rovini la win streak Never mind Vedi meglio Sì molto 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 meglio A posto E' bel posto Molto carino Ecco così Ecco ecco Ok Oh le ragazzi Che cosa serve la full bright Quando hai cheat Oh le No non si chiamano cheat Si chiamano torce Beh comunque Un cheat È un avvantaggiamento Che gli altri non hanno Avesse la sicura mano Con l'opticon Credo sia l'ultima La vie nelle bedwars A parte Oltre a big hardcore Ok ok Vuoi che ti porti A vedere le mie scale Le tue scale Prima ho detto Che mi lasciavo giù Per le scale Ok Per quello Mi hai provato A sbudellare un'acqua Ma l'altro È morto Allume cerume Ma ti spiego No allume cerume bro È il mio incubo Mi stream snipera Da credo Sette anni Ma come si fa A stream sniperare Uno youtuber Cioè ti metti la disguise E non ti troveranno mai Dici te bro Loro È molto semplice Quando sei live ok Ma quando sei fai un video No 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 bro Basta che tu entri nella lobby Loro ti guardano Appena tu metti il disguise Cambi nick davanti a loro E è a posto Oppure anche se entri nella lobby Comunque ti scrivono Ciao Marcus Tanto lo so che sei Marcus Cioè la buttano a caso Capito E ci azzeccano sempre Orelli ma stanno messi malissimo Allume cerume Allume cerume Allume cerume Allume cerume Allume cerume Allume cerume Senza lettume Ciao Spartan Benvenuto Però mai Che secondo me conviene Che ci facciamo un hardcore E giochiamo un hardcore Facciamo un hardcore E giochiamo un hardcore Fatta Hai un hardcore È una vanilla normale No è moddata Allora niente Io ci ho fatto qualche contenuto Ma è carina eh È bellina Però è moddata Capito E poi è Happy to win Che paga di più Capito Semplici Ah vai ma io ho streamer Quindi Ah sì 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 Ovvio ovvio Io sono stream to win Stream to win Sì sì 12 ore al giorno di streaming Prima o poi lo raggiungo qualcuno No è che è pericoloso Se entri in un server Perché Cioè solitamente io Quando Cioè l'avete visto anche con la big Sono sempre H24 line Perché voglio essere il più ricco Se io comincio dal basso In un server già avviato Peraltro con l'economia Con player che spendono soldi Io Non esco più di casa Pur di farmare soldi Cioè è una roba È una roba pericolosa per me Faccio 16 ore al giorno Pur di fare soldi Cioè è pericoloso È una roba Stavo guardando la chat Sì sì tranquillo Eh no sono caduto Siamo potuto capitalista Dimmi che non mi hanno dato l'ordine Abdul Ti prego Hai rio stimato 22 Ciao campione Benvenuto Oddio Oddio sto andando avantissimo Niente Buon dato È l'uso Ma ti può creare Un hardcore tutti quanti Con chi Con tutti quanti Quelli possiamo scrivere Nella big hardcore Nel gruppo E vediamo chi ci vuol stare Partecipate alla nuova hardcore No 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 vabbè Non è tanto Nel senso parteciperanno poche persone Però sarebbe figo Fare un'altra hardcore Senza classifica Ehm Ho buttata lì eh Cioè nel senso non lo so È una mia idea Ci ho pensato anch'io Un paio di utenti Che verrebbero giocare Li ho già Anche Carpi Per assurdo Potrebbe venire Non lo so Perché Carpi Era preso bene Infatti è che muore sempre Ehm Non è sbagliato Il problema è Cioè Quanti vengono Quelli grossi Sicuramente ci sputeranno Addosso Vabbè Sì ma non è un problema Ehm No era per dire Che magari Quelli più grandi Non ci cagano Postino Devi scompare di fronte La mia vista No 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 Devi morire Basta Non ti faccio scrivere Sì sì Rega tipo Marti Tangi Gente così Ah esatto Loro sicuramente Verrebbero Anche perché Marti Mi ha detto Il campione Grazie mille per l'euro Oggi di fare contenuti assieme Quindi Non avrei problemi Il problema è Cioè Di invitare qualcun altro Ecco Boh Sì ma Allora Metti Domi J Carpi E io Già siamo quattro Ok Ah Non è morto Ehm Te Marti Sì ma il fatto è che Non è neanche il periodo Migliore Capisci Cioè dopo Big Arco Eh lo so Lo so È perché io Anche te no Ora Tu hai una survival Da streamare Da portare avanti Sì ma la faccio in single player A voglia Vuole iniziare una hardcore scalare Nel senso che inizio Dalla 1.7 6 Non so qual è Cioè dalle prime versioni Fino alla 1.20 Man mano aumenta In che senso Certo il mondo del mondo Sarà una roba da 50 55 mila Abbiamo perso il letto Beh no E volevo fare una cosa scalare Nel senso che inizia una hardcore Da zero Dalle prime versioni Anche dove non si potrebbe camminare Ah ok Ok Figo Sì perché ci sono un sacco di cose Per assurdo L'armatura OP Adesso puoi metterti solamente protection O fire Protection Eccetera eccetera Un tempo Nelle vecchie versioni Potevi metterti addirittura Fire protection Cioè Protection 4 in un pezzo Blast protection in un altro Ah tutto praticamente Cioè ti fai full prot 4 E poi Incantesimi custom Uno solo eh Ma comunque È come dire Cioè capisci Ti mangia un armatore Nederita Perché poi arrivi fino alla nederita Si spera Se non muori prima Con full prot 4 E poi ci metti magari anche Il resto Poi forse la sharpness Per qualche bug Arrivava al 6 Roba del genere O anche efficienza Cioè so che erano sovrapponibili Certi Più che bug E mancante proprio di Ragazzi voi che ne pensate Secondo voi Ciao Antonio Marques nono Mi fracassa Marques nono Cioè te la stai prendendo Con uno che Non gioca da un fracasso Però se è veramente Botta a pedale Mamma mia Godo piange Stai imparando Pian piano a cliccare Con l'anulare Cioè prova a fare Una sola Con due dita Non ho gmc Niente Niente gmc No comunque Di te ce ne stanno un sacco La big cargo Anche riproporla Non è male Però cazzo no adesso Si che poi non sarà Prova una big cargo Si si ovvio Vabbè però In realtà Non proprio Cioè non è che È un hardcore Tranquillissima Magari come Se vedi Che così Che con Leutum Lolo Hanno fatto la loro serie No Si 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 Non sarebbe male Ma giusto perché Principalmente streamare sempre Badwars Dopo un po' Ti pesa Dillo a me Appunto capito Cioè ma perché Non sono quelle alla fine L'hardcore è molto Per fare tante tante cose Tante cose E niente No mi spacco la bocca Dai non è vero Dai ma Un postino bannato Comunque che Ecco Io ti saluto Vado Vado Ho perso la mia testa Ok Ti ringrazio Per tutto E nulla Quando vuoi fare qualsiasi altra cosa Me lo dici Hardcore Qualsiasi cosa Due badwars Ti scrivo la chiamata Mi scrivi E poi ci rivediamo Nella Coral Cup Tanto no Va bene Va bene Dai Ti saluto Buona live Ciao Checco Ciao bello Ciao ciao Allora Invece si Ok Allora ragazzoni Ci possiamo fermare Abbiamo fatto tre ore e mezza Tre ore e quaranta Si si stacchiamo 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 Abbiamo fatto tre ore e quaranta Ovviamente la live non era fino alle A mezzanotte come sempre Io vi ringrazio Davvero Sostate gentilissimi Per questa live Grazie mille Se volete Vi lascio appunto Il video di oggi Qui In chat Andate a vedere se ve lo siete persi Cliccate Vi siete divertiti in live Se no ragazzoni Spaffate una spalla di sì o no Questo è il link ragazzi Basta che lo cliccate E andate a vedere appunto il video Grazie mille per esserci stati ragazzoni E nulla Mi fa piacere Mi fa piacere Mi fa piacere Vi auguro una buona cena Una buona serata Un buon proseguimento di giornata E ci vediamo come sempre Domani alle 15 Con un nuovo video Sì poi lo farò sapere Per il live Un bacione E ci vediamo domani Ciao ragazzoni Grazie mille per A tutti Grazie 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 Ok qui ho staccato E vi saluto Ci vediamo domani ragazzi alle 15 Ciao ciao